Buonasera a tutti, abbiamo scoperto dove sono finiti gli 11 milioni del famoso pasticciaccio della regione Lazio sulle mascherine. Tra poco ve lo diciamo perché c'è una persona che per la prima volta viene in televisione e dirà la verità. Dopo la pubblicità torniamo. Sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore. Come vi dicevo abbiamo scoperto dove sono finiti questi 11 milioni che la Corte dei Conti chiede direttamente a Zingaretti. Certo perché dobbiamo scoprirlo noi, questo è un altro mistero, ma dopo ne parleremo. Adesso vi faccio vedere quella che è la stretta attualità. Giorgia Meloni non è ancora nato il suo governo ma sta lavorando per fare il governo della destra e c'è un'Italia che fa una forte opposizione anche sui social, nei commenti, eccetera. Guardate che cosa si dice. Italia Corsara in Terra Maggiara. Sensazionale prestazione della Nazionale. Chiaro omaggio alla nuova fulgida era che oggi si apre per la nostra stile. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio. I valorosi paladini azzurri hanno conseguito una gloriosa vittoria ardita e pugnace come il suo primo ministro. Manco più un albergo se va. È il regime questo, è il regime. Stronzi! Una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva. Il corpo è mio, è mio, è mio! Ma Giorgia Meloni non vuole toccare il diritto all'aborto, vuole garantire l'applicazione della 194. Come non vi rendete conto che esattamente questo è il problema? È un partito apertamente fascista e soprattutto erede del movimento sociale italiano. È stata votata democraticamente, ma da chi è stata votata? Mi dicevano che non ho mai votato in vita mia. Quest'anno sono andata a prendere la tessera elettorale perché ho deciso che voto Fratelli d'Italia. Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Perché? Basta! È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Amici, si parte! È poche ore e andrò lontano! Noi dovremmo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza. La pioggia, il traffico, la vittoria della Meloni. La Meloni no! La Meloni no! San Francesco diceva tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. Do il benvenuto a Gad Lerner, sirme del fatto quotidiano, intellettuale, è importante averlo qui questa sera, grazie Gad. Aldo Cazzullo, vice direttore Corriere, ma è grande successo anche il mercoledì con una giornata particolare proprio qui sulla 7. E poi so che addirittura Amazon è più richiesto con Mussolini il capobanda. Quindi, insomma, siccome si parla anche di questa situazione oggi, questo titolo è perfetto. Alessandro Sallusti, direttore di Libero! Benvenuto in collegamento! Poi, dovete permettermi un'inclusione, tra virgolette, dell'ultima ora, perché ho voluto dare spazio, e ne parleremo tra poco, a questo signore. Se me lo inquadrate, si chiama Attilio Caputo. Buonasera, Attilio! Buonasera, buonasera a tutti! Tra poco scopriremo perché ho voluto che lei si collegasse con noi. Allora, Gad, è esagerato tutto quello che sta succedendo, insomma, c'è chi dice, vabbè, il fascismo, oggi siamo nel 2022, che sensazioni hai? Io non vedo sovreccitazione, è passata liscia una vittoria annunciata ed è però un passaggio storico. Allora, se volete vedermi con l'anello al naso retrogrado che, ossessionato, grido al ritorno del fascismo, fate pure, è una caricatura grottesca, ma francamente in giro ne ho visti pochi così. Ma per favore non negatemi che è un passaggio storico. Il ritorno della destra-destra al governo pieno da protagonista, avendo quel passato, perché quello è il passato, il post-fascismo è un fatto, non è... Sì, io mi diceva Bernard Lévy, filosofo francese, eccetera, quando qualcuno ha detto no, ma c'è il centro-destra al potere, lui si è anche innervosito e ha detto no, perché la Meloni rappresenta la destra-destra. Ma si offende se gli dici centro-destra, non ha più bisogno di prefisti, di attenuazioni, è destra-destra e ha dentro quella componente, c'è una parte del suo partito che deve rispettare, che non può... Ma possono esserci rischi, secondo te, per la democrazia, come alcuni quotidiani stranieri hanno titolato, scomodando, ecco, il governo più a destra dopo Mussolini. Ma se ci guardiamo intorno, ci guardiamo intorno per il mondo... Cioè il capobanda... No, no, alziamo un attimino lo sguardo dal Brasile agli Stati Uniti, alla capitale del fascismo mondiale di oggi, che è Mosca. Il discorso di Putin dell'altro giorno era un discorso etnonazionalista che riprendeva tutte le tematiche classiche del fascismo. Un fascismo, né più né meno, compresa quel volete farci genitore 1, genitore 2... Però, però, Alessandro... Quindi perché l'Italia sarebbe l'unica isola felice dove la libertà è data per scontata in eterno? Alessandro, però, non è che non possiamo non leggere quello che scrivono all'estero, i giornali, o spesso riportando ovviamente persone che lavorano qui, colleghi che lavorano qui, che poi dicono delle cose su di noi. E addirittura Biden, quando fa l'uscita, parlando del rischio che anche nelle prossime elezioni a novembre in America non vada così bene per i democratici, lui dice che non si può essere ottimisti. Avete visto cosa è successo in Italia con la Meloni? Sì, ma Biden parlava a una convention del suo partito e diceva ragazzi, non facciamo come Letta e Gad Lerner perché sennò perdiamo le elezioni, cosa assolutamente legittima. Sì, ho letto anche questo, effettivamente, che è colpa degli antifascisti se torna il fascismo. Vedi, a sentire Gad sembra che essere di destra sia un reato. Al mondo esistono le destre e le sinistre, poi hanno varie declinazioni, i conservatori e i democratici, i tori e i labu. Essere di destra non è un reato. Però Gad va oltre e dice, attenzione, che la destra ha originato anche il fascismo, che è una delle tante destre possibili, non è l'unica destra, è una delle destre. Attenzione, la sinistra ha generato anche il comunismo, che è una delle grandi tragedie del secolo scorso, dove i regimi comunisti sono stati tra i più feroci e tutto. Nessuno è mai venuto in mente, quando D'Alema è diventato presidente del Consiglio, e dire, ma tu sei stato comunista, quindi qui mancherà la libertà. Eppure D'Alema era uno che era sceso in piazza a favore di Pol Potta. Il tuo ex editore diffuse in decine di migliaia di copie il libro nero del comunismo in quei giorni. Comunque, mi piace l'impostazione che dà Sallustri. Abbiamo avuto un presidente della Repubblica che è stato a favore dell'invasione dell'Ungheria, e fu anche tra quelli che condannò a morte. Ma questo continuo linkare con una parte del passato, che non è tutto il passato, è una parte del passato, chissà perché, vale solo per la destra. Per la sinistra, il passato non conta. Allora, io penso che il passato non debba contare né per la sinistra né per la destra. E qua ci dividiamo, io penso che debba contare moltissimo per entrambi. Vedremo cosa farà, vedremo come sarà capace di governare questa destra, ma io non sento in giro per il Paese un timore di perdita della libertà. Quale Meloni avremo? Quella vicina alla Thatcher o una Meloni più zona Evita Peron? Perché questo noi non lo possiamo dire oggi. Noi dobbiamo aspettare quello che sarà. Ma Cazzullo, che nel suo libro dice che non c'è paura, non tornerà al fascismo. Tu demolisci assolutamente i famosi luoghi comuni che dicevano però fino all'accordo con i nazisti il Mussolini era buono, cioè ha fatto cose solo buone. Tu lo demolisci, vai a vedere tutte le negatività di quel periodo. Però dici, è anacronistico oggi parlare o pensare che torni il fascismo? È così Massimo, noi abbiamo un'idea edulcorata, autoconsolatoria di Mussolini. Uno che aveva due palle così. Ha dato un po' di bastonate, ma quando ci vuole, ci vuole. Peccato poi l'alleanza con Hitler, la guerra. Ma nel 1938 Mussolini aveva già provocato la morte di Matteotti, di Carlo Enello Rosselli, di Gobetti, di Don Giovanni Minzoni, un prete, di Giovanni Amendola, un liberale, nessuno di loro era comunista. E poi la guerra non è frutto della follia del Duce. La guerra era insita nel fascismo, che ha in sé l'idea di una razza che si impone su un'altra, di una nazione che si impone su un'altra. E anche mandare gli Alpini in Russia a congelare senza... Al massacro. Anche quello fu un crimine contro il nostro stesso popolo e doveva ancora venire lo stremino degli ebrei e la guerra civile che è stata drammatica. 427.000 morti. Ecco, però, a chi dice oggi siamo nel 2022? E questo è il punto, no? Io ti stimo... Sì, prego, prego. Io ti stimo e io ti stimo molto. Ma perché non hai fatto questi ragionamenti quando Napolitano è diventato Presidente della Repubblica o D'Alema Presidente del Consiglio? Alessandro, io non ho nessun problema a definirmi... Posso rispondere io? Io non ho nessun problema, Alessandro, a definirmi anticomunista. Esattamente come non ho il problema a definirmi antifascista. Noi però abbiamo conosciuto... Ma perché non hai detto il giorno che Napolitano è diventato Presidente della Repubblica? Noi però abbiamo... Perché non sei andato in televisione a dire... Attenti! Ma perché Napolitano non ha causato una guerra da 427.000 morti. Ma perché noi abbiamo avuto la dittatura fascista e non la dittatura comunista. Per rispondere al resto della tua domanda, su se torna il fascismo... Napolitano faceva parte del comiter, eh? Ma Napolitano non ha ucciso nessuno. Napolitano non ha ucciso nessuno. Però voglio finire di rispondere alla domanda di Massimo. Io penso che oggi ci sia di nuovo in Europa ci sia il razzismo, ci sia la xenofobia, Orban che parla di difesa della razza bianca, c'è di nuovo il nazionalismo esasperato. Ma quando si manifestano questi fenomeni non vuol dire che sta tornando il fascismo. Vuol dire semplicemente che alcune idee del fascismo, la xenofobia, il raffismo, il nazionalismo esasperato, non sono morte e tocca a tutti quanti noi. Non soltanto alla sinistra ma in primo luogo ai conservatori, ai liberali combatterli. Perché l'antifascismo non dovrebbe essere una cosa di sinistra. Ecco però, lo chiedo a Gad però, se anche a Sant'Anna di Stazema il luogo sono stati trucidati credo 500 persone dai nazifascisti durante la guerra, la Meloni ha ottenuto credo oltre il 30%. Aggiungi Sesto San Giovanni, dove la figlia del fondatore di Ordine Nuovo ha sconfitto il figlio di un deportato ad Auschwitz. Allora che cos'è? Vuol dire che c'è una smemoratezza rivendicata. Hai sentito, Sallusti? Su questo ci dividiamo. Quando diceva, io sono dell'idea che il passato è passato e basta. Ti faccio un esempio. Tra dieci giorni si eleggono i presidenti dei due rami del Parlamento, giusto? Potrebbe diventare seconda carica dello Stato, cioè presidente del Senato, un signore che si chiama Ignazio Larussa, che si è arrabbiato molto con suo fratello quando ha fatto un mezzo saluto romano al funerale la settimana prima delle elezioni, accidenti, l'ha sgridato pubblicamente, ma che un anno fa, mica una vita fa, ha proposto che il 25 aprile diventi una festa nazionale diversa, non più la festa della liberazione dal fascismo, ma la festa di commemorazione delle vittime del coronavirus. Questo l'anno scorso. I simboli si impastano con le questioni che sollevava adesso Aldo Cazzullo, con le tentazioni autoritarie, la denuncia del mescolamento delle razze possibili, i nazionalismi. Chiudo subito per rispondere anche alla domanda sua su Napolitano. In Italia c'è una differenza. La Costituzione è stata firmata dal presidente di quell'Assemblea, che si chiamava Umberto Terracini, il quale è stato il detenuto politico che ha fatto più carcere sotto il fascismo, 18 anni ininterrottamente. Giorgio Almirante l'anno dopo ha potuto essere eletto deputato democraticamente grazie a quella Costituzione. Non puoi mettere sullo stesso piano Terracini e Almirante, anche nell'intitolare statue e piazze. Guarda, io non metto sullo stesso piano. Io ti dico che Eugenio Scalfari, pace all'anima sua, parlandone da vivo, è stato un convinto fascista, che è uscito dal partito fascista perché lo riteneva poco fascista. Anche il mio amico Giorgio Bocca, tantissimi. Anche Davide Laiolo, che è stato un grande partigiano, prima era un fascista. Allora voglio dirti, io voglio dirti questo. La differenza è che se Giorgio Meloni, cosa che escludo categoricamente, ma voglio seguirti. Se Giorgio Meloni dovesse evocare qualcosa che assomiglia alla strage di Stazzema, sai qual è la differenza? Che tu, come tutti gli intellettuali di sinistra, andrai esule a Parigi. Io andrò sui monti a combattere Giorgio Meloni. Ok? Perché questa è la differenza. Dopodiché, ma perché dobbiamo dire che Giorgio Meloni è figlia di quella roba lì? Ma che cosa c'entra Giorgio Meloni con quella roba lì? Allora, perché Scalfari non ha dovuto mai rispondere di quello che ha fatto quando aveva vent'anni? Che poi Giorgio Meloni a vent'anni non ha fatto nulla di tutto questo, tra l'altro. È molto semplice, perché Giorgio Meloni, ancora nel suo libro autobiografico, scritto l'anno scorso, diceva Io sento sulle mie spalle la grande responsabilità di rappresentare la storia dei 70 anni di destra italiana da Almirante a Rauti Affini. Allora... Lo rivendica questa storia. Allora... E io la rispetto perché la rivendica. Posso andare... No, no, posso... Almirante è riuscito a traghettare la destra nell'arco costituzionale. Questo ha fatto Almirante. Ha traghettato la destra post-pacista nell'arco costituzionale. Lo capirai, penso che riuscirai a comprendere che per me è imperdonabile chi faceva la propaganda per le leggi razziali da segretario della rivista della difesa della razza. Non puoi pensare che, visto quello che è successo dopo, che noi ce ne dimentichiamo. Allora, io vi porto... Scalfari è stato fascista, Eugenio Scalfari è stato fascista, Dario Po è stato fascista, i tuoi amici sono stati fascisti veri. Devo dire che Berlinguer e Almirante si stimavano, no? Cioè, ricordiamo, c'era un rapporto di... Cioè, voglio dire, cambiare anche posizioni è importante. Lo stesso Fini, no? È andato... Rispettarsi è diverso dal fare pari e patta tra Terracini e Almirante. Rispettarsi è una cosa ben diversa. Però vi voglio portare sulla tensione che sta... Una grossa discussione. Rula Gebralla ha pubblicato un tweet. Contro Giorgia Meloni ci sta. Però il problema è che fa riferimento al padre che aveva avuto una vecchia condanna. Però... Vecchia condanna per droga, viveva in Spagna e quant'altro. Eccolo qua. Il problema è... Che il padre di Giorgia Meloni abbandonò Giorgia e sua sorella quando avevano un anno. Allora, io vorrei capire, da Sallusti... Poi veniamo anche a... Ce n'è un altro che ti riguarda personalmente, è uscito un attimo, un'ora fa, credo, due ore fa. E veniamo a quello. Però vorrei attenerti su questo. Cioè, ormai in politica si sta sdoganando sia a destra che a sinistra una dialettica sempre più violenta che... Cioè, le colpe dei padri. In questo caso non era... Era un padre biologico, possiamo dire. Ma lei non l'ha mai neanche considerato tale. Quel tweet dell'Egebriale è la cosa più fascista che si è vista in questa campagna elettorale e nella post-campagna elettorale. È proprio una cosa vigliaca, stupida, da ignorante, perché lei non lo sa che lei... Anche se Giorgia Meloni centrasse qualcosa con suo padre, non è che le colpe dei padri cadono sui figli, ma il problema è che proprio lei è stata abbandonata dal padre che aveva un anno. Quindi, anzi, questo dovrebbe andare a suo merito. Essendo stata abbandonata dal padre un anno, avendo un padre di quel genere lì, è riuscita a diventare quello che è. L'Egebriale dovrebbe applaudire Giorgia Meloni se avesse... Ma sai, l'Egebriale è una che, in una trasmissione televisiva di qualche anno fa, da Formigli, credo, di fronte... C'era Porro che gli contestava alcune cose che lei aveva detto, credo, sulla Brexit. Lei gli ha detto, taci tu, uomo bianco. Allora, capisci? Ma di che cosa stiamo parlando? Ovviamente, Rula Cebrale, non c'è, quindi è che facciamo un processo... Però quello che voglio capire, da Gade e da Cazzullo, cioè ormai gli avversari politici sono dei mostri contro cui si può usare tutto, cioè stiamo sdoganando negli ultimi anni una violenza incredibile. Ora, anche oggi la madre di Giorgia Meloni ha fatto una lettera, è uscita pubblicamente questa lettera, ripresa da tutti i giornali, dove dice, ma guardate che mia figlia, cioè proprio, oltre al dolore, ha perso un padre, non averlo mai visto. È molto lunga. Noi abbiamo sintetizzato un passaggio politico, voglio farlo vedere. Quando Giorgia fu nominata alla vicepresidenza della Camera, credo fosse il 2006, molto più di vent'anni dopo, ecco arrivare, quindi da vent'anni il padre non sapeva neanche che esistesse, ecco arrivare a telefonata di un amico comune, Franco, che era il nome con cui si faceva chiamare il padre, cioè non lo chiamava neanche figlia, papà, Franco, avrebbe avuto piacere di rivedere le ragazze, Giorgia e sua sorella, ma Giorgia disse di no. Ve la faccio breve, non ho niente da dirgli. Allora, Gade e A, voglio capire perché si sparano queste cose. Queste sono vicende dolorosissime, di rapporti con i padri. Io ho avuto un rapporto complicato con mio padre, per fortuna, non a questi livelli. Rula Gebreale ha avuto un rapporto drammatico con suo padre e ne ha scritto in un libro, io non sto qui a ripetere, ma storie pesanti, anche quelle. Non dovrebbero entrarci per nulla. Proprio perché ha scritto queste cose personali. Anche se, non so, quando io ho avuto un problema con mio padre, sul giornale di Sallusti l'hanno messo in prima pagina, ma quindi ognuno qui fa il santo e il politicamente corretto. Ma questi sono stupidaggini, sono dettagli. È evidente, non so se si possa dire a quest'ora in televisione, che Rula Gebreale ha pisciato fuori dal vaso, ha fatto un tweet che è un tweet di una giornalista, se non possiamo trasformarlo in un caso politico nazionale, di fronte a una persona che ha vinto nettamente le elezioni, che si prepara a fare il presidente del Consiglio. Io vado oltre al tweet di Rula Gebreale. Voglio cercare di capire, si cerca qualsiasi cosa pur di colpire l'avversario. È questo che è intollerabile. Non mi pare che in questa campagna elettorale ci sia stata una personalizzazione così feroce da parte di quelli che si sono confrontati. Non c'è stata, così come non c'è stato nessuno che ha gridato al fascismo perché vinceva Fratelli d'Italia, c'è stato chi saggiamente, secondo me, ha continuato a dire, come diceva Calamandrei, state attenti che la libertà è come l'aria, è una di quelle cose che quando c'è non te ne accorgi, ma te ne accorgi solo quando comincia a mancare. Per conquistarla i nostri nonni hanno pagato un prezzo alto. Non dimentichiamolo che i nostri nonni per conquistare la libertà hanno pagato un prezzo alto. Le storie che anche tu hai raccontato, te lo siamo detti una volta, benissimo, noi vecchi parcigiani di destra e di sinistra. Questo è molto importante Massimo, perché tra i partigiani c'erano comunisti, socialisti, azionisti, ma c'erano anche cattolici, monarchici, liberali. Le prime bande partigiane furono formate da ufficiali degli alpini. E io vorrei ricordare anche i 600.000 internati militari in Germania, di cui non si parla mai, che vennero fatti prigionieri dai tedeschi, portati nei lager, spogliati, affamati, umiliati. Poi venne loro detto... Perché risultavano di vestire la divisa della Repubblica. Vediamo una divisa, tornate in Italia, ma dovete impegnarvi a combattere brevissimo. Giovanni Guareschi disse... Io a Salò non vado e non muoio neanche se mi ammazzano. Quasi nessuno era di sinistra. E anche quella fu resistenza. Vada Massimo, il libro di cui parlava Gatt prima, Io sono Giorgio, è un libro che ha venduto tantissime copie, cosa che quasi mai, con qualche eccezione, tra cui Matteo Renzi e i libri dei politici fanno. Questo è accaduto perché dentro c'era una storia. Io avevo letto in bozza il libro e ho intervistato Giorgio Meloni prima che il libro uscisse. E lei aggiungeva in quell'intervista anche qualche dettaglio rispetto al libro, ad esempio. E raggiungeva il fatto che quando il padre stava morendo espresse di nuovo il desiderio di vedere le figlie e la sorella maggiore, Giorgio Meloni è legatissima, Arianna, andò e lei invece non andò. Mi ha raccontato... Io a lungo ho pensato che quello non fosse un problema. Poi ho capito che invece era il problema. E che se io ero così dura è anche perché ho sofferto tanto per i miei di mio padre. Poi chissà se lei avrebbe ottenuto quello che ha fatto nella vita se non avesse avuto questa forza morale dentro, non lo so. Di sicuro, è vero che Rula Gebrale ha sbagliato, questo credo che l'abbia capito anche lei, però sono d'accordo con Gad su un punto. Voi avete fatto bene a far vedere nel servizio il liceo occupato. E secondo me è sbagliato occupare un liceo per protestare contro un Stato democratico. Però non vedo tutta questa mobilitazione nel paese. Finisco. Quando fu letto Trump, io ero come ricorriere a New York, la città era percorsa di continuo da cortei indignati. Hey, 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 ho, 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 Donald Trump has got to go. Trump se ne deve andare. Poi tanti andavamo a intervistare i ragazzi e avevano o non avevano votato o avevano votato Arambi, che era un gorilla dello zoo di New York che era stato ingiustamente abbattuto. Come dire? Si sono indignati a posteriori. Non vedo questo in Italia. Sallusti. No, ma vedi, io, non è vero che la Zebrial ha chiesto scuso, si è pentita, anzi oggi ha rincarato la dose. Ha rincarato la dose con una tesi molto vigliaca e dice, ce l'hanno con me perché sono di colore palestinese, islamica. Quasi a voler dire che un palestinese di colore islamico non può dire una cazzata, non può essere criticabile perché sennò è razzista. A me non interessa di che colore, di che religione, di che fede sia la Zebrial. A me, io ho segnalato semplicemente che ha detto una cosa che non ha nel caponecoda, che anzi è addirittura vergognosa, non solo che ha nel caponecoda. Ma lei insiste, dice, tu sei razzista perché mi attacchi perché è donna di colore. Francamente che questa sia la notizia del giorno mentre è in corso forse la terza guerra mondiale. Mi sembra grottesco, così come trovo grottesco questa personalizzazione continua per cui il giorno prima di dedicare il titolone di prima pagina a Rula che sei scema, perché questo era il titolo se non sbaglio, il giorno prima il titolone di prima pagina del giornale di Sallusti era per Antonio Scurati uomo di M giocando sul fatto che M è anche il titolo del suo libro su Mussolini ma evidentemente l'intenzione era diversa e quindi l'aggressività di cui parlava Massimo Gilezzi la M era per dire Mussolini abbiamo letto anche il tuo articolo nel quale si giocava parecchio su che cosa fosse uomo di M riferito a uno scrittore italiano che non ti piace ma da qui a farci il titolone del tuo giornale non è che non mi piace io dico che un scrittore italiano che è forte del suo successo e della sua fama va in Francia e rilascia un'intervista a un importante sito francese dove dice che l'Italia è antipatriottico questa è vecchia se parliamo male di voi è stupido vuol dire che vogliamo male all'Italia è infondato no uno può essere contro la Meloni contro la Meloni ma io non dico perché sei contro la Meloni cosa c'entra la Meloni ci mancherebbe altro che uno non può essere contrario alla Meloni vorrei anche vedere ma uno che va a dire che in Italia è tornato il fascismo ai francesi in questo momento molto delicato è un traditore ma è liberissimo di farlo invece guarda citiamo di nuovo il libro della Meloni ma io sono liberissimo di farlo però se lui è libero sono libero anch'io di dire che secondo me ha fatto una cosa da stupidi oggi la Meloni è molto cambiata poi non so se avremo tempo di parlare del modo in cui si presenta il giorno del voto si presenta con due Meloni qui all'altezza del seno perché vuole apparire la donna del popolo alla Col di Retti dove i Meloni giustamente come grande patrimonio della nostra agricoltura li vendono è andata giustamente col tailleur della Presidente del Consiglio e io sono contento diciamo e come dire non sto certo a criticarla per quella fotografia mi interessa come vuole proporsi vuole proporsi come donna del popolo come donna che anche se da 16 anni il Parlamento fa ironia sì ma certo dai fa ironia non voglio passare per bacchettone dai fa ironia ma lasciami giochi di parole sul cognome non me li posso permettere lasciami ecco noi non possiamo fare giochi di parole sui nostri noi non li possiamo mettere noi potremmo mettere qualcos'altro ma rimaniamo in termini perché c'è tanta frutta e tanta verdura sempre nel suo libro a un certo punto la Meloni dice guardate che il bipolarismo dei prossimi anni sarà fra noi i fratelli d'Italia e il Partito Democratico dove il Partito Democratico cito testualmente sarà il rappresentante degli interessi stranieri delle consorterie europee mentre noi siamo i veri patrioti che difendono gli italiani e infatti vedi Sallusti scatenato contro Scurati che è andato in Francia fermo l'avesse detto a Roma ma sarebbe stato diverso ma insomma Alessandro io adesso però vi ho detto pochi minuti fa che avevo deciso di dare voce a una persona perché poi noi parliamo eccetera ma il paese reale è quello che ci sta per raccontare Attilio Caputo Attilio Caputo è un direttore generale di una catena di alberghi storica che appartiene alla sua famiglia e ha preso una decisione pesantissima vuole dire che decisione ha preso? Sì diciamo che siamo giunti alla determinazione che i costi così elevati dell'energia elettrica non ci consentono di avere un bilancio in grado di soddisfare non solo l'azienda ma principalmente anche i collaboratori in pratica non riusciamo a pagare gli stipendi con questi costi elevati e quindi abbiamo deciso di avere tutti i percorsi che bolletta le è arrivata scusi solo per essere così chiari 100 mila euro degli scorsi mesi centrali della stagione quindi luglio-agosto siamo passati a 500 mila euro di quest'anno 500 mila euro quanti 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 dipendenti lascia a casa? Tra stagionali e collaboratori a tempo indeterminato siamo in 275 senza considerare tutti i rapporti che poi abbiamo con gli allievi delle scuole alberghiere degli studi tecnici superiori con gli allievi delle università che frequentano anche percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle nostre strutture nel Salento Scusi ma la sua è una decisione nella speranza di è una provocazione forse è uno posso dire uno spot contro per far aprire gli occhi noi perché stiamo parlando noi da mesi ce l'hanno raccontata che facevano il tetto del gas che avrebbero preso non sono riusciti neanche a fare una differenziazione tra l'energia prodotta dall'idrolettico dal vento dai fossili dal gas che il 60% dell'energia prodotta in Italia viene da lì non dal gas non sono riusciti quindi cosa si aspetta lei? cosa si aspetta? Sicuramente che venga attenzionato il problema come priorità ovviamente è un problema che riguarda dalle famiglie alle piccole e meno imprese alle aziende energivore la Germania ha sostenuto famiglie e imprese con un investimento nel bilancio statale di 200 miliardi noi siamo ancora ad inseguire quelle che sono le determinazioni dei 27 paesi dell'Unione Europea nel frattempo la situazione è questa ovviamente io parlo della mia realtà ma la condivido con tutti gli albergatori della provincia di Lecce la nostra associazione di categoria a Sotella con la quale problematiche abbiamo già portato all'attenzione nazionale adesso gli ho dato questa finestra in un contesto importante perché qui abbiamo tre giornalisti tra i più famosi in Italia hanno idee diverse su tante cose però questo poi è il paese e le risposte adesso il governo Meloni le avrà da dare ma sarà molto complicato perché si trova mille problemi mille grandi problemi da risolvere che succederà adesso? intanto la Germania è vero che ha preso questa decisione importante ma l'ha fatto per il proprio interesse senza badare gli altri non ha torto la Meloni quando dice il problema la pacchia è finita l'abbiamo criticata quando disse adesso in Europa la pacchia è finita espressione sbagliata perché dell'Europa noi abbiamo bisogno però in questo caso noi dobbiamo cercare di fermare la speculazione che i tedeschi che hanno per carità abbiati loro che hanno i soldi da parte ma in questo modo se ne sono fregati dagli altri europei prevale l'egoismo avevano sognato un'Europa che faceva unione durante la pandemia che si è trovata unita anche sulla questione della guerra in Ucraina e adesso però su questa questione rischiamo molto Gad perché poi questi signori si chiudono se facciamo il braccio di ferro con la Germania secondo voi chi vince non ce n'è anche da fare allora è vero che la Germania ha messo 200 miliardi di compensazione alle sue aziende che vivono una situazione drammatica come quella del signor Caputo in questo modo tra l'altro realizzando anche una concorrenza sleale nei confronti delle nostre aziende che non hanno quel tipo di sostegni lo fa perché non ha il debito pubblico che abbiamo noi ed è interessante questa inversione di ruolo per cui se hai notato ha fatto un comunicato duro Draghi contro chi vuole andare per conto proprio in Europa e un'ora dopo è uscito un comunicato della Meloni che sembrava una fotocopia e quindi abbiamo avuto questa inversione di ruoli per cui oggi l'europeista è la Meloni e il sovranista è il solito tu in un articolo del fatto hai ripreso delle parole di Formica l'ex ministro che diceva l'ord che Draghi è l'ord protettore che in effetti Draghi per il bene dell'Italia non per salire sul carro del vincitore per il bene dell'Italia si offre di accompagnare in Europa di fare il garante Alessandro è così? No dico che non è un'inversione di ruola perché non è un'inversione di ruoli anzi io vedo qualcosa di coerente perché vedi noi abbiamo noi insomma la Meloni è stata dipinta come anti-europeista come una che vuole ma la Meloni è presidente di uno dei più importanti raggruppamenti politici dell'Unione Europea un raggruppamento di cui facevano parte i tori inglesi prima dell'uscita della Brexit cioè non degli scappati di casa capisci quindi vuol dire che la Meloni non è che è contro l'Europa è contro un'Europa come quella che si sta palesando in queste ore in cui la Svezia fa i miliardi ma torna sulle bollette Alessandro torna sulle bollette che credo interessino di più al signor Caputo tornando sulle bollette l'Italia non ha 200 miliardi da spendere per sostenere le sue imprese perché addirittura la Meloni con molta responsabilità ha detto non possiamo permetterci neanche uno scostamento di bilancio in questo momento neanche di 30 miliardi come pure chiede Salvini giusto? Io torno sulle bollette perché so che non ti piace stare sull'altro piano ma sull'altro piano è quello di dire però poi non menatecela con l'Europa unita se qui ognuno fa gli affari suoi allora non è che quando noi chiediamo di fare gli affari nostri non sulle bollette che non possiamo dimostra che la Germania può fare a meno dell'Europa unita ha stanziato anche 100 miliardi per riarmarsi avremo un esercito tedesco se non siamo capaci di fare un esercito europeo invece l'Italia non se lo può permettere di andare da sola e quindi adesso scusate quindi ha caputo ha ragione la Meloni 2 ha ragione la Miloni che ieri ha detto che bisogna mettersi d'accordo fra tutti gli stati europei la 1 la Meloni 1 faceva i convegni a Roma che io me li sono visti nei quali diceva che non si può avere altro che l'Europa delle singole patrie che non rispettiamo la Meloni 1 ha depositato in Parlamento una legge di riforma costituzionale per sostenere che le leggi dello Stato italiano devono prevalere sulle leggi europee e andiamo a catafascia allora signor Caputo io le ho dato spazio le leggi tedesche stanno prevalendo sulle leggi europee assolutamente falso le leggi francese stanno prevalendo sulle leggi europee insomma il concetto non è così ma allora facciamolo anche noi e vediamo se non andiamo a sbattere allora no è vero noi siamo molto deboli ma certo che siamo deboli caputo non ho mai detto il contrario caputo prima di salutarla che speranze ha secondo lei perché quello che dice Gad poi alla base non abbiamo quel bazooka da sparare in quel senso come ha avuto la Germania ma sicuramente vorrei che lo diciamo da mesi che se i soldi non arrivano alle singole aziende questo paese può chiudere perché sono le piccole e medie aziende che tengono in piedi l'Italia ma lo stiamo dicendo però da marzo io personalmente vedo la fatica che fa mio fratello a mantenere l'azienda di mio padre in piedi alla fine che cosa ci aspetta che lo Stato ci abbandonerà perché lei quando dice io mando a casa 500 persone quasi tra indotto e i suoi è costretto a farlo che speranze ha me lo dica in due parole io sono per lo spirito di Ventotene quindi giusto per agganciarmi al dibattito sono un europeista convinto l'Europa ha già fatto tanto nel periodo della pandemia supportando tutte le aziende anche quelle italiane e in questo periodo secondo me non sta comprendendo qual è la priorità vera che appunto questo sostegno con un prezzo fisso perché partiamo in un periodo in cui la geopolitica ci dice che stiamo vivendo un periodo di economia di guerra per cui vanno attivate delle normative che dia un tetto prezzo dell'energia e quindi è necessario che nell'ambito della discussione europea vengano accelerati questi processi decisionali la Germania ha fatto solamente questo che l'interesse nazionale hanno disposto sicuramente da quelli che sono gli interessi europei signor Caputo la salutiamo la salutiamo poi seguiremo la sua storia grazie vi faccio vedere Putin perché voglio un parere da tutti e tre su Putin Putin ha detto queste cose grazie President Российской FEDERACI Владимир Vladimirovich Putin grazie 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 americani elità по сути используют трагедию этих людей для ослабления своих конкурентов для разрушения национальной государственно это это касается Европы это касается идентичности Франции Италии Испании других стран многовековой истории Вашингтон требует все новых санкций против России требует все новых санкций против России большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются они же ясно понимают что США продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов ведут дело практически деиндустриализация Европы к тому чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок все они понимают эти элиты европейские все понимают но предпочитают обслуживать чужие интересы поэтому политикам и в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть реже мыться а дома потеплее одеваться начинает задавать справедливые вопросы а собственно почему почему так не медленно объявляют врагами экстремистами и radicalами переводят стрелки на Россию говорят вот источник всех ваших бед опять обслуживающих Due, c'è l'idea che i migranti si muoverebbero perché un burattinaio americano, qualcuno lo definiva usuraio, cioè Soros li adopera contro le nazioni che non vogliono... Ma il rischio è che adesso i falchi prevalgano a Mosca, visto le difficoltà che c'è in questa guerra, aumentano. Quando uno è chiuso in un angolo può sbagliare ancora di... E quando la guerra si prolunga non finisce mai come uno l'aveva pianificata e può sempre esserci l'imprevista. È una situazione pericolosissima quella che stiamo vivendo. Capobanda è un capobanda, a proposito del tuo libro. Putin è un capobanda. È anche peggio di un capobanda, è un criminale. Massimo, a me è piaciuto pochissimo quello che ha detto Putin e mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto il signor Caputo che ha citato lo spirito di Ventotene. Ventotene è l'isola dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e altri antifascisti confinati da Mussolini scrissero un manifesto in cui presagivano l'unità europea che poi fu diffuso clandestinamente a Roma, gente finì in galera per diffondere quelle idee. Ecco, queste idee sono quelle che dobbiamo mettere in pratica adesso. l'Europa deve fare fronte comune contro Putin. Mi fa piacere che la Melonia abbia preso questa posizione. Spero che Salvini e Berlusconi la seguiranno. Perché è vero che l'America può avere interessi diversi dai nostri in questa fase. Ma se noi lasciamo che Putin metta le mani sull'Ucraina e assedi il resto dell'Europa, la Polonia, la Finlandia, noi saremo sconfitti. Sallusti, torno a ripetere però, la mia posizione da sempre è andato salutato, Sallusti appena l'ho citato è andato via, però la mia posizione da sempre è che forse dovremmo essere meno sudditi nei confronti degli Stati Uniti, visto che ci riguarda da vicino, forse l'Europa dovrebbe essere più presente nelle trattative, sforzarsi per fare le trattative. Preo Sallusti, direttore vai. Ma guarda, innanzitutto lasciami dire che Gad che è ossessionato legittimamente dalle destre, dovrebbe ben sapere che Putin ha affascinato le destre e le sinistre di tutto il mondo e ancora oggi le affascina destre e sinistre. Anche in Italia ci sono personaggi della sinistra molto affascinati da Putin. Ma non è questo il problema. Il problema non è se l'America fa gli affari suoi, cosa assolutamente vera e questo è un problema. Il problema è che se sei dentro un'alleanza, l'Europa dovrebbe dire all'America guarda, è ovvio che noi stiamo con te, stiamo uniti, perché noi facciamo parte di quel mondo. è che dobbiamo dividere e compensare i sacrifici che questo comporta. Allora a me non fa nessuna specie stare dalla parte degli americani. Mi fa specie che gli americani vuole che questo avvenga gratis, anzi a mie spese. Allora è questo che l'Europa dovrebbe fare, non passare dalla parte da Putin, ma convincere o costringere gli americani a pagare il conto di una politica che piaccia o no ha un suo fondamento. Se vogliamo un futuro del mondo a guida orientale o occidentale. So che le scelte sono brutte, ma dovendo scegliere io sto dalla parte dell'Occidente, non dell'Oriente. Certo, certo, grazie. Allora io vi voglio far sorridere, perché anche bisogna trovare sempre, abbiamo trovato due parenti stretti di Enrico Letta e della Giorgia Meloni messi a confronto. Guardate. E' parente di chi? Sono la cugina di Enrico Letta. Io sono la cugina francese di Giorgia Meloni. Un difetto di Giorgia? La mia cugina è troppo buona. Come sono andate le lezioni? Maluccio. E' stato un trionfo di mia cugina di Giorgia. Qual era la parola chiave della campagna elettorale? Scegli. L'aveva scelto sta... Scegli. Gli avevo detto, ma sei sicuro? Gli italiani si devono risollevare dalla pandemia. C'è una guerra nel cuore dell'Europa. C'è un'inflazione. Devono pure scegliere. Tu lo sai quali sono i problemi. Tu mi devi dare le soluzioni. Pronti. Qual è il motivo della vittoria o della sconfitta? La colpa di Conte. La colpa di Conte del cambiamento climatico. Il giorno pioveva. Anche mio cugino ha avuto difficoltà. C'era un'acquazione di andare a votare. Ha fatto fatica. E' colpa di fatto che si vota sempre di domenica. E si sa che il popolo di sinistra, domenica e fuori, preferiva votare di lunedì. E queste sono sempre quelle scelte che non fa scelto. che fanno un certo tipo di elettorato. Le colpa anche del fatto che le monetine di 5 centesimi non le usa con nessuno. E' colpa che la mano destra è sempre privilegiata rispetto alle sinistra. E' colpa del fatto che si vuole sempre andare a votare quando c'è il weekend. Ma la cosiddetta gauche italiana non ha trovato un'alleanza per le elezioni. Non si sono messi d'accordo. Che è una cosa strana. Che non si sono messi d'accordo. In generale molto si mettono sempre d'accordo. E quindi hanno regalato alla droite italiana la vittoria. Cosa farà vostra cugina? Penso che quando la parisci magari troverà Giorgela. Da cosa deve ripartire il paese? Dal cuore. Dalle candelabra. Viste che le bollette della Lumière oggi non se le può permettere più nessuno. Salutate e dategli un consiglio. Ciao Enrico. Nulla ti dico Enrico. Allora vado a portare il cuore a questo punto. A bientot ma bella cousine e fate attenzione alle foie al fuoco amico. Allora adesso entriamo nel vivo di questa serata. Parlando di che cosa? Del pasticciaccio. Perché io lo chiamo così. È il pasticcio. Ma siccome è avvenuto nel Lazio. Ricordando il fattaccio di via Merulana. Lo chiamiamo il pasticciaccio. Che ha al centro chi? Il presidente della regione Lazio. Nicola Zingaretti. Al quale la Corte dei Conti ha chiesto 11 milioni di euro. Non poco. 11 milioni di euro. Perché è un danno presunto. Perché poi sono i magistrati a decidere. Presunto danno erariale per che cosa? Per un'operazione che aveva avuto la finalizzazione di comprare milioni di mascherine. Eravamo in piena pandemia. Quindi bisogna essere cauti e capire anche il momento. In questa storia c'è un protagonista assoluto. Che ha deciso di parlare. È dietro le telecamere. Lo vedete. Si chiama Sergio Mondin. Non ha mai detto nulla in diretta in un programma televisivo. E questa volta ha detto. Io non ci sto a passare per truffatore. Io sono stato truffato. Qual è la verità? La verità ve la diremo tra poco. Perché abbiamo scoperto dove sono finiti questi famosi 11 milioni. Che la Corte dei Conti chiede adesso a Zingaretti. Ma in tutta sta storia è finita dentro anche la sorella di Zingaretti. Ora la quale dice. Io non c'entro nulla. Era un gran pasticcio. Ve lo ricordate? In piena pandemia. Non si trovavano le mascherine. Quindi lei adesso che siamo riusciti a incontrarla. E con noi è stata estremamente gentile. E cortese. Ci dice. È chiaro che ognuno cercava di dare una mano. Però bisogna capire dove sono finiti i soldi. Io vi faccio ascoltare un breve frammento della sorella di Zingaretti. Prego. Posso chiedere una cosa? Perché a un certo punto Moroni dice che lei ha richiamato accusandolo. Io già sono molto scossa di essere stata messa in mezzo a una vicenda. Ah no, mi immagino. Per cui non entro proprio in niente. Io sono una che è fuori da tutto. Sempre da tutto. Faccio la mia vita. Faccio il mio lavoro e faccio altro. Certo. Per cui per me è già stato difficile leggermi su tutti i titoli. senza avere alcun tipo di coinvolgimento e responsabilità. Perché un signore che in quel momento non so quale mire avesse mi ci ha messo in mezzo. Al nostro caro Marsilli ha risposto con il nostro caro Marsilli tutte le domande. Poi le ascolteremo dopo. E certamente io devo dire la verità che quando uno si ferma e racconta beh è un buon segnale. Poi vedremo cosa succederà. Però questa sedia qui, questa poltrona al mio fianco è vuota perché tra qualche istante entrerà l'uomo che ci dovrà dire dove sono finiti tutti questi soldi. Prima però vi voglio far vedere i due personaggi che sono al centro di questa storia. Il presidente della regione, lo conoscete, Nicola Zingarelli al quale, lo ripeto, l'accordo dei conti ha detto e qui devi dare indietro tu 11 milioni di euro che non è una cifra ma... Insieme a chi? A Tulumello. Tulumello è il capo della protezione civile voluto da Zingaretti su questo famoso acquisto che doveva essere di 35 milioni di euro portare a casa 9 milioni e mezzo di mascherine per cui era stato dato un anticipo. La cifra che vedete è quella che devono dare in solito questi due signori se saranno accertate perché bisogna essere garantisti bisogna stare calmi soprattutto ricordare che era un periodo di grandi difficoltà però questa è la situazione. Il punto interrogativo è dove sono finiti i soldi? Ve lo diremo questa sera se l'uomo che sta per entrare lo dirà perché lui è il protagonista che è entri Sergio Mondin eccolo qua ricordo che a Sergio Mondin era stato affidato una fornitura di un valore di 35 milioni di euro e lui avrebbe dovuto portare milioni e milioni di mascherine. Buonasera, prego sia come Buonasera a lei, grazie. Ho detto che qua noi abbiamo davanti o il truffatore o il truffato e vi spiego perché dico il truffato perché questo percorso lo faremo molto rapidamente ma in modo incisivo permetta di salutarmi però le persone che abbiamo visto qui intorno siccome è così delicata lei ha detto io vengo però voglio avere il mio avvocato l'avvocato Quadri vicino Buonasera avvocato e noi l'abbiamo invitata Giorgio Quadri legale di fama che ci aiuterà se ci sono delle difficoltà Roberta Angelilli buonasera è la donna storica famosa di destra che ha sollevato insieme a Chiara Colosimo una sua oggi deputata è entrata in Parlamento e quindi la Colosimo quindi allora era consigliere regionale come lei giusto? hanno sollevato il caso Luca Telese vice direttore di TPI buonasera Luca e Danilo Lupo che conoscete benissimo perché è il nostro inviato di punta che va in giro da tutte le parti e ha seguito questo caso ovviamente avevamo invitato Regione Lazio ma ha declinato con una nota stampa che poi magari vi faremo vedere l'invito dicendo attenzione aspettate noi abbiamo fatto tutte le cose per bene non ci sentiamo minimamente colpevoli di qualche cosa ma infatti lo chiedono adesso a Corte dei Conti personalmente i soldi no Angelilli a Zingaretti e a Tulumello allora lei doveva portare queste mascherine ricordo erano in piena pandemia non si sapeva come far arrivare in Italia le mascherine allora come è andata la cosa? perché non le ha portate subito? allora portate le ho portate stasera devi dire la verità guardi abbiamo pacchi di documenti così da poter produrre per cui non c'è nessun problema portate le abbiamo portate in ritardo in ritardo? in ritardo assolutamente in vigenza contrattuale comunque era ancora vigenza contrattuale dell'annovazione non del primo le avete portati? sì e giacciono ancora presso le dogane di Milano Malpensa e Roma Fiumicino cioè dal 2020 stanno ancora là? signor sì sa che costa ogni giorno credo Avvocato Quadri quanto costa più o meno pagare queste mascherine ferme lì dal 2000? 1.100 euro al giorno e chi è che paga? dal 2020 e chi è che paga? scusi giusto così fino al 31-12-2020 ha pagato la Ecotech la sua azienda noi bantiamo che quelle mascherine devono essere ritirate o diciamo decurtate dal debito o dal credito esistente iniziale noi ieri abbiamo l'altro ieri abbiamo chiesto espressamente se esistono ancora queste mascherine se c'è non l'ho fatta però le ho procurate ma lei però mi scusi e qui anche vediamo in questo mondo strano italiano fino a poco tempo prima aveva un'azienda importante che faceva si occupava di lampade di design di alto profilo che cavolo c'entra con le mascherine? allora io sono un imprenditore poliedrico mi occupo sì di illuminazione industriale è uno dei business ma proprio in quel periodo anzi dai 6 mesi precedenti avevamo iniziato anche a lavorare sui dispositivi medici quindi avevamo incontrato nel nostro percorso aziende e tessuto perché lei dice come molti imprenditori era un casino in quel momento ci siamo buttati là attraverso le mie conoscenze i miei ganci internazionali che può aver avuto tra l'altro io ho un socio cinese che ha 30 anni di esperienza nel mondo internazionale e quindi lei ha detto vado ma come è andata scusi una domanda come ha contattato questa gente perché era un problema anche contattare ha sentito la sorella di Zingaretti dice mi sono rivolti un sacco di personaggi a chiedermi dei soldi dei soldi scusi come fare a inviare le email e come ha fatto? io sono stato contattato non ho contattato nessuno chi è che l'ha contattato? tramite conoscenze mi ha contattato il dottor Tulumello direttamente quindi il capo della protezione civile le ha chiesto mi aiuti ho sentito che tu puoi contare mi aiuti sì questo è stato il contratto caro Luca a parte un contratto ma poi arrivo Roberta un attimo solo io vi voglio far vedere i soldi perché chiaramente non gli danno tutta la cifra 35 milioni gliene iniziano a dare 14 che la Ecotec però non si tiene in tasca lo vedete la regione Lazio dà 14 milioni di euro alla società del signor Mondin la Ecotec ma la Ecotec siccome faceva produceva lampadari non è che si mette a produrre mascherine va a cercare in giro per il mondo chi può fargli avere le mascherine vedete una in Cina una in Svizzera attenti alla Josser perché è molto importante inglese è una grandazzo questi soldi vanno lì non se li tiene in saccoccia lei giusto? giusto allora mi spiega perché iniziate a sospettare che qualcosa non tornasse perché innanzitutto sul territorio le mascherine non arrivavano quindi ricevevamo denunce da parte di ospedali RSA carceri quindi il problema c'era c'era un problema forte e c'erano però 100 milioni di euro a disposizione per reperire questi dispositivi che fine facevano questi soldi poi sono venute fuori una serie di contratti da parte del capo della protezione civile Tulumello con una serie di società e degli anticipi milionari ma intanto le mascherine non arrivavano negli altri paesi normalmente si fanno le lettere di credito no? cioè non è che si danno dei soldi in contanti uno non è che va da uno e dice sì 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 intanto ti do 14 milioni poi chissà si arriveranno si danno delle lettere di credito avvocato normalmente esattamente ma è stata quella la prima proposta presentata alla regione invece a voi arrivano i soldi Danilo dove vanno a finire questi soldi è giusto quella lo schema è perfetto preciso tra l'altro il randazzo è sostanzialmente la logistica cioè sono quelli che con gli aerei dovrebbero andare e portare le mascherine in Italia che tra l'altro vengono pagati per gli aerei vuoti che è una cosa stranissima mentre i soldi i 3 milioni della lingua sono gli unici che in qualche modo hanno prodotto un risultato cioè un milione di mascherine chirurgiche che a un certo punto sono arrivate e quelle che adesso sono ferme diciamo alle dogane il vero punto interrogativo che è anche l'osso più succulento sono la Exor e la Joseph e adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo Luca questa storia che ha messo sotto i riflettori il presidente della regione a cui la Corte dei Conti chiede di restituire insieme a Tulumello 11 milioni dobbiamo però onestamente per onestà intellettuale dire erano momenti veramente drammatici ricordiamolo io mi sono fatto un'idea su questa inchiesta sulle cose che abbiamo letto e lo dirò strada facendo però già voglio dire una cosa subito il ministero degli esteri in quei giorni provava a raccogliere mascherine con i metodi tradizionali con le lettere di incarico riusciva anche a chiudere dei contratti poi ha raccontato il nostro ambasciatore che arrivavano gli inglesi i tedeschi sulle piste di decollo con le valigie di soldi li davano compravano la fornitura e le portavano a casa quindi il dramma che si è prodotto anche prodotto questa procedura di affidamento che ora è facile giudicare ex post ma allora la domanda era ce l'abbiamo le mascherine ora e questo è stato il tentativo di risolvere l'emergenza dopo la pubblicità non solo nel Lazio dopo la pubblicità in tutte le regioni vi facciamo vedere dove sono finiti questi soldi e perché non c'è stato un controllo perché questo è un problema dopo la pubblicità l'uomo che vedete seduto vicino a me ci svelerà dove sono finiti i soldi della famosa questione della regione Lazio che vede coinvolto in questo momento il presidente Zingaretti a cui la corte di conti lo ricordo ha chiesto 11 milioni indietro deve pagarli di tasca sua ho detto siccome il signor Mondin viene indicato come truffatore ho detto io non ci sto più io voglio venire e dire qual è la mia verità che poi sono i magistrati a chiarirla però dice io non ce la faccio la cosa incredibile che abbiamo scoperto adesso che ci ha detto l'avvocato Quadri è che queste mascherine non solo le abbiamo pagate ma stanno ferme da due anni dentro dei magazzini ma scusi lei che sta in consiglio regionale questa notizia è sconvolgente le abbiamo pagate non le usiamo ma è surreale è surreale è una notizia surreale ma come è possibile queste mascherine dovevano arrivare due anni fa sono state pagate a dei prezzi esorbitanti non le abbiamo mai ricevute mai in parte pochissime diciamo in percentuale pochissime credo anche di scarsa qualità no 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 ma non lo so forse sta parlando di qualcun altro la Corte dei Conti che sta indagando diciamo che è molto molto critica sull'andazzo sia della Regione Lazio in particolar modo di Tulumello capo della protezione civile però anche nei confronti delle aziende la Corte dei Conti dice ma come mai Tulumello ha scelto dei soggetti che erano palesemente inidonei palesemente inidonei cioè si riferisce al fatto che lui aveva un'azienda di lampada di lampadi di design di lampade una piccola azienda che non è stato in grado di produrre delle garanzie lei lo sa bene che tutti si davano noi abbiamo raccontato la storia di Benotti Danilo lo sa molto meglio di me quindi la Pivetti che tra l'altro mi sembra sia stata anche condannata in primo grado credo mi fanno confermare le ragazze che non erano omologate molte anche se erano rispondevano che c'era l'ente regolatore che stava in un paese dell'Europa approvavano approvavano qui ci sono 11 milioni le mascherine stanno le dugane noi ci paghiamo 1100 euro ogni giorno e stanno là e non sono ancora arrivate lui viene accusato di essere truffatore e non ci sta dice basta non parlo non hai parlato ho detto voglio questa sera dire la mia verità io ribadisco è la sua verità però a un certo punto Nicola Zingaretti fa un post guardate che cosa dice se la prende un po' con la destra con lei la Colosimo perché dice cade un'altra bufala della destra sono arrivate le prime 800 mila mascherine siamo nell'11 aprile attenti l'11 aprile le mascherine non arrivate nei primi 4-5 giorni e si era trattato credo Mondina Marzo doveva arrivare quindi siamo in ritardo però iniziano a arrivare Angelini arrivano avete detto una bufala secondo loro assolutamente no era tutto vero quello che dicevamo noi ormai certificato anche dalla Corte dei Conti però loro ci accusarono di fake news che eravamo vergognosi che stavamo speculando ma qui dice anche che la polizza assicurativa sulla caparra quindi dice noi siamo tranquilli c'è una polizza assicurativa ma innanzitutto la polizza è venuta in un secondo tempo all'inizio non si parlava di polizze le polizze non sono state proprio richieste però in quel momento mi scusi per andare al sodo delle questioni lui dice va bene a ritardo per arrivano siete i soliti raccontate le solite valangate di stupidaggini e però c'è qualcosa che non torna Danilo perché a un certo punto è la stessa regione Lazio tra il 29 marzo e il 2 aprile visto che non arrivavano a diffidare l'ecotech cioè la società del signor Mondin è così Danilo? l'atteggiamento della regione Lazio noi dobbiamo dire la verità l'atteggiamento della regione Lazio è singolare nel senso che prima interrompe i contratti con Mondin e dice io non voglio avere più niente a che fare con te pochi giorni dopo il 10 aprile cambia tutto e dice no facciamo di nuovo il contratto però mi produci una polizza fideiussoria che cos'è? è un'assicurazione antitruffa cioè se tu non mi porti le mascherine l'hanno fatta la polizza assicurativa dice il problema è che la prima polizza tenetevi forte aspetta tenetevi forte la regione ma che volete arrivano stanno arrivando è vero in ritardo ma c'è anche la polizza quindi noi siamo assicurati se non paga se non arriva materiale c'è la polizza tenetevi forte prego c'è la prima bozza di polizza che è falsa che infatti viene di fatto accartocciata e buttata via ma non se ne accorge la regione se ne accorge per l'altro l'avvocato Quadri era falsa la seconda polizza che arriva e che viene tra l'altro anche pagata è che per la regione è buona in realtà buona non è nel senso che la società che deve dare i soldi che deve ridare che avrebbe dovuto ridare i soldi indietro non è abilitata ad operare in Italia e quindi non tira fuori i soldi la protezione civile dice noi abbiamo fatto un decreto ingiuntivo anche un anno e mezzo fa a me Tulumello disse noi riavremo questi soldi perché la società è piena di milioni di sterline ad oggi i soldi non sono arrivati attenzione per essere onesti dobbiamo dire che secondo l'ANAC cioè l'agenzia che controlla l'anticorruzione tutto è stato archiviato come dice anche il comunicato della regione Lazio tutto a posto ma tutto a posto in che senso? sti milioni che noi adesso continuiamo a vedere dove sono finite? è importante dirlo però dove sono finite? è importante quel comunicato dell'ANAC perché l'ANAC è un'autorità che ha una funzione ispettiva e anche inquirente e quindi che cosa verifica subito? verifica l'imprenditore ha avuto rapporti con l'amministrazione ci sono state bustarelle ci sono degli illeciti questa sarebbe stata la prima e gravissima ipotesi la seconda ipotesi c'è un conflitto di interessi cioè questo imprenditore è amico di qualcuno presta la barca a Zingaretti o qualcuno tutte queste cose che abbiamo visto in altre storie non c'erano quindi usciamo dalla fattispecie del dolo cioè c'è stata una truffa perché qualcuno doveva guadagnarci e entriamo nella diversione perché è accaduto questo pasticcio dicono che Mondini ha truffato la regione ma noi qui stiamo scoprendo che la polizza assicurativa una è falsa e l'altra è sbagliata alla regione qualcuno non dico Zingaretti che ha altre cose da occuparsi un responsabile che è in questo caso il capo della protezione civile saprà nel suo ufficio avrà qualcuno che dice ma guardi che quella polizza non serve e non copre è il minimo che chiediamo visto che ston pagati credo anche quasi 200.000 euro prende il signor Tulumello al quale noi abbiamo andati già un anno fa a chiedere eri andato tu se non sbaglio te lo faccio rivedere e poi siamo tornati perché chiaramente abbiamo aggiornato la situazione ora per carità lo ripeto era un periodo caotico quindi è chiaro che tutti come dice la sorella ha detto anche in quel momento la sorella di Zingaretti chiunque cercava di dare una mano però sembra una commedia italiana qua poi tirata fuori diciamo tirata fuori in maniera indegna cioè la sorella di Zingaretti arriva una persona in questo caso e dice mi dai un contatto lei si ferma lì non chiama neanche per dire è un buon imprenditore non fa niente e finisce ma dopo la sentiamo dopo per correttezza lo ripeto è stata gentilissima e la sentiamo volevo solo dire per correttezza sento ripetere sempre la parola truffa a Piazzale Clodio non esiste questa ipotesi dal tribunale si diciamo però lo dico nel senso che è caduto tutto su Mondini si però truffa truffatore ha ragione a correggermi allora andiamo a vedere che cosa diceva Tulumello a Danilo Lupo un anno fa e poi l'abbiamo visto come risponde oggi questa regione ha dato sempre comunque agli ospedali quello di cui ha bisogno sempre grazie al lavoro del sottoscritto e di chi ha c***o sangue qui e alla gente non è possibile che non gliene debba fregare un c***o solo perché il popolo vuole il sangue perché non gli interessa dire lo so che non gli interessa dire siete stati bravi siete stati comunque bravi anche se avete avuto a che fare con dei figli di p***a lo so che non gli interessa così parlava un anno e mezzo fa Carmelo Tulumello bravi lui e tutta la protezione civile della regione Lazio nel gestire la commessa Ecotec mascherine pagate in anticipo e mai consegnate per cui oggi la Corte dei Conti ha chiesto a lui e al presidente Zingaretti oltre 11 milioni di euro per risarcire il danno fatto alle casse pubbliche e così adesso Tulumello non ha più tanta voglia di rilasciare interviste volevo capire se lei proprio personalmente si sente tranquillo rispetto a quando assolutamente perché l'anno scorso mi disse noi avremo la fede di usione avremo i soldi indietro si parla di termine la reale su questo c'è un comunicato stampa di regione e anche una dichiarazione del mio legato quindi io per questo non posso di ascoltare ma c'è di più Tulumello non avrebbe avuto i requisiti per essere il direttore della protezione civile e quindi aveva un debito di gratitudine nei confronti di Zingaretti per aver beneficiato di una nomina in assenza di esperienze specifiche questo perlomeno scrive la Corte dei Conti sulla base della denuncia del sindacato lui era comandante dei vigili urbani allora un comandante dei vigili urbani ma quale competenza amministrativa e peraltro al momento che c'è stata la decisione giunta il presidente Zingaretti si sarebbe dovuto astenere in quanto Tulumello era una sua conoscenza diretta di partito in quanto era stato candidato per il PD per delle elezioni a un comune del Readino come non è stato eletto a questo punto lui l'ha selezionato per fare il direttore della protezione civile comandante dei vigili urbani e poi delle guardie provinciali qui a Rieti dove la storia la conoscono bene ma che potete fare? oggi c'è un servizio in realtà su Tulumello che è stato il comandante vostro si non si rida no no perché è così questo in palle la polizia provinciale è qui? siamo noi sto facendo un servizio su Tulumello che è stato comandante vostra no 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 non c'è più Tulumello questa è la sede della provincia non c'è il palazzo della polizia provinciale siamo quattro gatti siete quattro gatti? sì ah come quello è passato da dirigere quattro gatti a 16.000 persone ha fatto un bel salto diciamo no? pure di stipendio immagino lo stipendio annuo di Tulumello è di 155.000 euro lordi a cui poi si aggiunge il premio di risultato altri 30.000 euro complessivamente arrivano sui 184 190.000 euro certo è uno stipendio di tutto rispetto infatti però al di là dell'entità dello stipendio devi avere le capacità per poterlo fare ma chi decide se ha la capacità ha raggiunto i risultati e quindi gli tocca il premio sempre la giunta regionale ecco la delibera con cui Zingaretti e Assessori valutano i loro dirigenti nel 2020 l'anno del disgraziatissimo affare delle mascherine il punteggio di Tulumello è astronomico 98 punti su 100 allora voglio subito far chiarezza quindi su una cosa ho detto prima che la Pivetti è stata condannata è indagata quindi si sta facendo il processo eccetera spero che possa dimostrare che non è colpevole certo però i riflettori sono accesi su di lei come sono accesi Benotti un caso molto camoroso una società di intermediazione con la Cina la conosco benissimo e il tema non era che nel suo caso che non avesse portato ma che l'hesse portato senza quella omologazione che molti inseriva va bene attenzione vi chiedo solo una cortesia l'ANAC lo ribadiamo nella nota che ci ha mandato la Regione dice insomma ha chiesto per l'archiviazione sul caso Regione Zingaretti e quant'altro perché è emersa l'assenza di significative irregolarità da parte dell'amministrazione e poi ha detto anche che gli anticipi di milioni di euro sono espressamente consentiti dalla disciplina emergenziale però secondo me però il tema è che sono legali ma imprudenti sono un po' molto imprudenti perché non ho mai visto nessuno a cui dici scusa ti do con tutto rispetto però non possiamo sostenere sia che il signore ha portato le mascherine ti do 14 milioni non è che ti do 5 lire non l'ho mai visto nessuno in cambio di non aver nulla perché poi alla fine abbiamo avuto poco 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 allora Tulummello arriva da Rieti a comandare la protezione civile cioè mettetevi anche nei panni di uno che è abituato onestamente a 4 situazioni piccole di Rieti la provincia la polizia locale 4 dipendenti eccetera a comandare la protezione civile in un pasticcio come era quello alla fine bisogna avere delle persone competenti io mi stupisco che abbia avuto tra l'altro 98 come punto 98 su 100 cioè tutti i dirigenti la sfizza se voi me la mandate lenta non ce n'è uno che ha fatto male tutti questi dirigenti statali tutti 98-99 98-99 ce n'è uno che ha avuto 97 poverino e quanto equivale 20 o 30 mila euro a volta bonus quindi oltre al suo si portano a casa quello però adesso andiamo a vedere la sorella dei zigaretti che ripeto è stata tirata in ballo perché qualcuno ha detto eh ma lei ha fatto ascoltate la sua verità ed è importante che abbia parlato perché così chiarisce c'è questo imprenditore Moroni che ha fatto questa ricostruzione un po' particolare per cui è riuscita a mettersi in contatto con lei tramite questo insegnante di suo di Pilates e poi si è sviluppata diciamo questa vicenda e questo scambio di mail volevo sapere se non c'è nessuno scambio di mail come tra l'altro lui ha detto negli atti lui non mi ha detto che già aveva contatti con la regione lui mi ha detto che mi mette a disposizione della regione per trovare mascherine non so come fare io non ricordo neanche che ho sentito in segreteria ho detto la signora Rita apparsa a un certo punto la signora Rita non la conosco quindi non so per francamente non ricordo ho detto c'è un signore che è a disposizione vedete cosa succede e chi è perché io non lo conoscevo io non l'ho mai visto il signor Moroni dopo un po' mi viene detto che questo signore già aveva avuto contatti con la regione che la cosa già non era andata a buon fine quindi io l'ho richiamato e gli ho solo detto ma perché mi hai raccontato un'altra storia rispetto a quella che era successo mi sembra che sta cercando di mettermi in mazzo ti prego non mi devi scurrare più così è chiuso e così appare negli atti io di tutto il resto non so nulla perché no era semplicemente per sapere cioè anche lei quindi si è attivata in qualche modo per far arrivare i contatti io ero in quarantena come lo era mio fratello questo signore mi ha telefonato attraverso ti dico il mio insegnante di Pilates quindi che insegnava qua mi ha detto scusa ti disturbo Angela ho questo signore che mi non so se erano soci o amici e mi ha telefonato altri movimenti io non ne ho fatti altre ricerche non ne ho fatti altri contatti non ne ho avuti ma in quel momento anche il suo fratello immagino che si stesse informando per la vicenda era in quarantena malato e ricoverato per cui no posso chiedere una cosa perché a un certo punto Moroni dice che lei ha richiamato accusandolo io sono molto scossa di essere stata allo sti in mezzo una vicenda per cui non entro proprio in niente io sono una che è fuori da tutto sempre da tutto faccio la mia vita faccio il mio lavoro e faccio altro per cui per me è già stato difficile leggermi su tutti i titoli senza avere alcun tipo di coinvolgimento e responsabilità perché un signore che in quel momento non so quale mi reavesse mi ci ha messo in mezzo assolutamente sono estranea a tutto era semplicemente perché a un certo punto Moroni mi riferisce in una telefonata fatta da lei al suo maestro di Pilate dicendo voi volete fare una truffa alla regione cioè era in questi termini che lei l'aveva messa loro mi hanno chiamato dicendomi come se fosse una cosa nata in quel momento volevano mettersi a disposizione della protezione civile o della regione ti prego Angelo aiutami se in questo momento l'Italia ha bisogno di noi aiutami e io ho provato ad aiutare poi scopro che in realtà i contatti loro già li avevano avuti con la regione i contatti non so in quale forma la loro proposta l'avevano messa allora ho detto ma si è sentita usata si è sentita usata appunto visto che io sto fuori da tutto ma perché che è un tranello c'è qualcosa dietro già minacciavano cose già minacciavano cause o altro ho detto per favore non mi contattare più per favore non mi mettere in mezzo a cose di cui non conosco l'origine ma quindi il suo fratello non le ha mai chiesto come dire di attivarsi per ma io e il mio fratello non parliamo proprio di parliamo almeno di politica cioè proprio fortunatamente abbiamo un altro tipo di rapporto su altri fronti io faccio tutt'altro lavoro io come tante gestisco la mia piccola società facciamo un lavoro amministrativo quindi proprio ok oltre a riballire la gentilezza e la cortesia di parlare con Carlo Marsilli nella nota stampa della regione Lazio dice la sorella il presidente è totalmente strana la richiesta e i chiarimenti da parte della corte dei conti però io questa sera rimango esterifatto dal fatto che lei mi dice che queste mascherine sono alle dogane ancora le abbiamo pagate non le abbiamo usate ma quanti scusi 1-2 milioni quanto saranno scusi qual è il numero di mascherine era la prima fornitura in arrivo tramite il il socio cinese del diretto visto che Giosar e Exor non adempivano a loro voi le avevate trovate con il cinese no trovate le avevamo ordinate le stavano arrivando ma stanno le dogane in questo momento 600 mila era il primo quantitativo da due anni 600 mila stanno lì in dogana poi qualcuno delle dogane ci spiegherà chi paga e ci spiegherà dove stanno magari ce le fanno anche vedere ma a me voleva dire una cosa in più mi ha detto Mondini sì due cose la prima che nella prima offerta nostra fatta alla regione chiedevamo una fiduzione per cui non chiedevamo soldi sì ma la regione per voce del dottor Tulumello non era in grado di emettere una fiduzione in tempi ragionevoli in tempi brevi gli ha dato i soldi in contatto sì sì ha preferito dare i soldi in contatto è andato lì nel cavo in banca e ha detto tiro fuori 14 milioni e l'ha dato perché non siamo in grado di fare una fiduzione nel 2020 20 ragazzi una fiduzione revolving che sarebbe servita per garantire i fornitori i fornitori non consegnano seconda cosa aspetti me la dice dopo dove sono fiditi i soldi perché questo è il punto che gli italiani vogliono sapere questi soldi dove sono finiti torniamo alla grafica e vi avevo detto attenti perché i soldi della società del signor Mondin l'Ecotec vanno anche alla JOSAR che è una società che ha sede legale in Inghilterra ma dietro c'è una donna italiana ed è una donna che siamo riusciti a conquistare telefonicamente ascoltate che cosa dice non ho rilasciato nessuna dichiarazione è la prima persona con cui parlo lei è stata ascoltata alla Corte dei Conti non interrogata non posso dire niente però sì lei poi ormai da due anni è rotti due anni e mezzo ha ricevuto quasi 5 milioni no? sì non ha dato neanche una mascherina e i soldi non li molla la morale descritta freddamente è questa lo dice lei beh nel senso forse è stato d'accordo con lei però la morale non è la parte commerciale insomma anche perché l'Ecotec sapeva benissimo che andavamo a pagare noi praticamente Mondin dice non sono un truffatore sono il truffato e chi mi ha truffato è la cazzata certo allora solo io e gli altri dove erano perché lì se ho ben capito ha avuto una parte degli anticipi versati della Regione Lazio sì e che fine hanno fatto questi fondi noi a nostra volta li abbiamo consegnati come anticipi ai vari fornitori erano pronti a consegnare le mascherine ma diciamo nei tempi richiesti perché lì poi il problema era un po' di tempi sì cioè a marzo sì nei tempi richiesti si erano pronte queste benedette mascherine perché non c'erano i soldi per pagare il saldo viene da rinforzino in parole povere quando si dà un acconto si deve anche poi premonire che alla fine questo saldo si deve pagare posso mai pagare un saldo senza aver visto neanche una mascherina? cioè non rischio di perdere come si dice la fermo perché lo faceva nel mondo intero cioè pagava tutto anticipato? certo non ci sono in quel caso le fideiussioni le assicurazioni quel tipo di di meccanismi che ti assicurano che tu mandi la somma appena arriva la somma viene sbloccato il credito e tu lo incassi io so che funziona così guardi in quel momento lì in quel momento stonico lì purtroppo la situazione era quello che era quindi vabbè lei dice comunque restituirete tutto questo è sicuro se non li avremmo se non li avremmo non li hanno i nostri fornitori quindi i fornitori dove sono? uno è indonesese e quell'altro è questo è russo russo ho capito è un po' complicato diciamo di questi tempi recuperare con un'azione legale non creda non credo allora voi sapete che ricevo un libro di querele continua vedo che il nostro avvocato è sempre al telefono immagino con chi però noi andiamo avanti andiamo avanti perché mi interessa la signora Cazzaro avete capito la signora Stefania Cazzaro ha detto che questo signore si sarebbe tenuto cioè non ho capito è credibile la Cazzaro o no cioè ha detto che lei sapeva una persona che è chiamata 4 milioni 740 e ho chiesto dammi l'evidenza di una mascherina cioè lei le ha dato 4 milioni ma non ne ha mai portato una mascherina una mascherina mai e guardi con lei ha fatto il giro del mondo perché diceva che erano in Svizzera in Austria in Inghilterra in Malesia in Russia in Repubblica Ceca cambiavano e poi in Russia mi sa che ma Russia all'epoca ancora sì sì però diciamo oggi non le recuperiamo più perché se sono in Russia credo difficilmente però il problema è che la Cazzaro questi soldi si li ha tenuti sì lei o chi per lei lei o chi per lei perché attenzione vedete la signora Cazzaro noi l'abbiamo trovata in Veneto ma la società è inglese quindi avvocato qua deve andare a prendere i soldi con le società inglesi beh una società che è detenuta in uno studio di un commercialista in una stanzetta c'è un foglio forse di domiciliazione forse esterovestizione direi forse cioè la signora Cazzaro è socia unica e amministratrice della società e vive in Italia al cellulare italiano e la mail italiana quindi cara Angelilli che cosa abbiamo scoperto questa sera lei ha lanciato il grido d'allarme come consigliere regionale ha sollevato il caso adesso c'è la corte dei conti stabilire la corte dei conti ma questa storia sembra una commedia italiana poi chiederò a Luca Telese di chiudere questa vicenda una commedia italiana cioè abbiamo dato i soldi così la regione non poteva farla fide di uscione lui dice non le ho potute portare prima le ho portate dopo cioè i soldi li ho date agli inglesi ai cinesi ai turchi non è colpa di nessuno ci sono in mezzo amici fratelli sorelle insegnanti di pilates ci sarebbe da ridere in realtà ma ma cosa vuol dire Roberta cosa vuol dire questa cosa veramente che non è non è non è non è non è non è trasparente cioè perché abbiamo visto una storia molto semplice abbiamo ci sono state delle interviste ma tirare per l'insegnante di pilates quando tu ricevi in questo modo come è avvenuto centomila segnalazioni il problema è come vengono pagliate e che effetto producono e se dietro c'è un interesse che tu ti metti a fare la battuta sull'insegnante di pilates ma l'ha detto lei non l'ho detto io non l'ho detto io stiamo parlando di imprenditori che sono no assolutamente di imprenditori che sono stati contattati senza avere nessun requisito di fidei uscioni che erano farlocche ma tu cosa vuoi dire vuoi puntare il dito su questo signore la vera domanda è come sono state selezionate queste aziende no io non punto il dito su nessuno vuoi puntare è la corte dei conti che sta indagando e il quadro che esce dalla corte dei conti è agghiacciante perché si parla di confusione totale irragionevolezza inadeguatezza inerzia della regione procedure illegittime no non è colpa di nessuno è colpa dei cittadini del Lazio che non hanno ricevuto le mascherine e che probabilmente non vedranno mai questi 12 milioni di euro di chi è la colpa di nessuno mondin lei da truffato non possiamo usare questa parola ma truffati sono solo i cittadini che ha detto che si era tenuto lei i soldi a un certo punto cosa si sente di dire adesso prima di chiudere questa partita con noi oggi per concludere il mio intervento e grazie dell'invito dico due cose sostanzialmente la prima è che la società Ecot nel 2020 ha fatturato circa 7 milioni dei quali 6 milioni e mezzo di dispositivi medici di dispositivi di protezione individuali passati tutti al baglio dell'agenzia delle dogane eccetera eccetera tutti i certificati consegnati ad altre regioni e consegnati ad altri entri pubblici tranne che alla regione Lazio la regione Lazio ha avuto i 2 milioni di mascherine chirurgiche che sono poco come valore ma comunque sono 2 milioni capito ma mancano gli altri 7 ma gli altri 7 come dicevo prima abbiamo dato l'evidenza se ne sono tenuti la Cazzaro e gli altri dice lei noi abbiamo dato l'evidenza di poter consegnare le FFP2 secondo la nostra produzione e la nostra pianificazione però alla fine non sono arrivate sono arrivate ma la regione non le ha ritirate Danilo questo è adesso chiudiamo questa pagina posso ritornare a bomba ad Attilio Caputo cioè all'imprenditore che per mezzo milione di euro di bolletta ha messo in cassa integrazione 275 dipendenti mezzo milione di bolletta qui parliamo di 12 milioni certo poterono essere molto più e questa è la nostra chiusura ringrazio i miei ospiti ma vi chiedo di andare in collegamento con Palermo perché lì ci sono gli uomini che sono i più grandi sostenitori del Movimento 5 Stelle perché sono i sostenitori del reddito di cittadinanza eccoli lì vai schembri eccoci eccoci Massimo è il gruppo che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi che ci siamo portati in trasmissione tante volte c'è Daniele c'è Maurizio i percettori di reddito di Palermo ma scusa ma scusa adesso non mi far tutta la storia di chi è del padre la nonna la figlia abbiamo i tempi molto rapidi come lo sai siamo più veloci della Ferrari lo capisco però ti dico una cosa lo sanno i signori che c'è la Meloni al governo no? la Meloni aveva detto in campagna elettorale dobbiamo stoppare il reddito di cittadinanza se dovesse succedere davvero che cosa sfarebbero? Daniele tu sei uno che prende il reddito di cittadinanza da tanti anni abbiamo conosciuto la tua storia e ora? ma io non sono preoccupato per se levano il reddito io ho detto sempre che comunque la cosa del reddito viene dopo il lavoro quindi se il governo entrante qui in Sicilia ha promesso lavoro a tutti se non si prende che diventa voto di scambio lo dovrebbe dare se tu dici io sono pronto a votare anche la Meloni se mi dà il lavoro al posto del reddito sono contento se le proposte di lavoro cominciano ad arrivare però se domani mattina dovesse togliere il reddito di cittadinanza così come i fratelli d'Italia dice? se tolgono il reddito non mi trovano il lavoro la domanda viene da sé cosa facciamo andiamo a rubare ci rivolgiamo alla malavita facciamo altro dobbiamo sfamare le famiglie in qualche modo quindi di conseguenza penso che prima di levare il reddito si dovrebbe preoccupare delle situazioni delle famiglie italiane gli altri cosa dicono? scusami gli altri cosa dicono? gli altri? Maurizio il rischio c'è che salendo al governo questa coalizione il reddito vada via? io probabilmente dalle dichiarazioni che fa la Meloni il rischio c'è mi sembra una follia perché evidentemente questa città non avendo lavoro vive in buona parte di reddito e non credo che nessuno può non tenerne conto secondo te che succede se dovessero togliere il reddito adesso? ma succederà quello che succedeva prima del reddito cioè ci sarà un aumento dell'illegalità l'aumento del lavoro in nero l'aumento della della sofferenza delle persone questo è il dato almeno che la Meloni o comunque il nuovo governo non voglia effettivamente aprire una discussione su come sdoganare una situazione di disperazione generale allora vi fermo un secondo avete già visto Daniela Santanchè Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle c'è l'onora Evide che adesso non so se è diventata anche onorevole in Italia ma è onorevole europea per l'Europa Verde quindi deciderà dove stare ecco però è una bella scelta volevo vedere però il volto di Gianluigi Cimmino che è il direttore generale insomma la Didia di Carpisa di Yamamai due marchi molto importanti e le voglio far subito una domanda dura Gianluigi Cimmino lei non ci segue magari sempre perché lavora però tempo fa avevo invitato un suo collega che si chiama Agnelli una delle più grandi aziende che produce padelle di altissime qualità aveva invitato a livello aveva detto vi do 1750 euro Netti più l'alloggio se venite a lavorare in Valtellina l'aveva detto agli amici che sono in collegamento con Schembri e la risposta non c'è stata ecco le è mai capitato di fare delle richieste delle proposte anche a lei aver ricevuto no non veniamo da voi perché questo è il punto eh buonasera buonasera innanzitutto ah lei nel ristorante vedo Sofia Loren dietro di lei mi scusi mi permette so che lei ha aperto anche un ristorante a Milano molto importante con Sofia Loren che si chiama così a Milano e a Firenze sì tocchiamo quindi ancora più da vicino i problemi di trovare personale nell'attività di ristorazione o comunque nell'attività turistica in generale allora mi è capitato certamente di richiedere anche dopo trasmissioni dopo essere stato invitato a trasmissioni della 7 chiedere contatti per avere colloqui con persone che percepivano il reddito e che quindi erano senza lavoro il più delle volte non sono riuscito neanche a arrivare al primo colloquio ma questa è una semplificazione perché è chiaro che chi percepisce il reddito di cittadinanza e ha poi la possibilità di arrotondare con il lavoro a nero se paragona uno stipendio di 1500 1700 euro al nord il costo della vita sociale al nord è più alto e quindi la concorrenza del lavoro a nero percependo un reddito vince e questa è questa diciamo la proprio la semplificazione di quello che viviamo al sud perché mi parlo da Milano può proporlo stasera per cortesia perché Schembri voglio che anche questa sera possa essere proposta questa possibilità agli uomini che sono lì vicino a te che rispondete perché Agnelli sta ancora aspettando le vostre email prego ricorderete che qualche mese fa l'imprendito Ragnelli come diceva Massimo nessuno però è voluto andare poi al nord a lavorare allora qua si deve finire sempre la stessa discussione io capisco che Giletti deve fare la trasmissione e coinvolge tutti in questo ragionamento noi abbiamo bisogno di creare sviluppo qua gli imprenditori vengano qua ad investire a creare lavoro ma la smettano di continuare a dire che noi dobbiamo andare a Milano la smettano è giusto guardi guardi io non ho l'accento di Milano quindi sono un po' più a nord di lei e quindi comprendo benissimo che l'obiettivo principale del nuovo governo dovrà essere quello di creare lavoro al sud purtroppo si è creata una situazione che adesso non potrà essere sanata abolendo il reddito perché sono 4 milioni i percettori di reddito di cittadinanza ma si dovrà capire a chi va questo reddito e parallelamente creare lavoro al sud perché noi usciamo da questa situazione soltanto creando opportunità di lavoro al sud regolari che facciano concorrenza ai malviventi che danno lavoro a nero e creino un mercato di lavoro sano se noi ci troviamo in questa situazione oggi è perché il voto è stato un voto di scambio alla fine ci troviamo in un mercato di lavoro che è stato dopato dal reddito di cittadinanza ma dopato in senso negativo perché abbiamo dato dei vantaggi al lavoro a nero rispetto al valore al lavoro regolato dobbiamo creare lavoro al sud dare opportunità a queste persone mi scusi dobbiamo dare opportunità a queste persone di rimanere al sud e di vivere con stipendi dignitosi quindi l'idea della vittoria rappresenta qui il Movimento 5 Stelle è chiaro che al sud voi avete fatto incetta di voti probabilmente soprattutto su questa carta giocandovi la carta del reddito in molti attenti che scrivono giornalisti e filosofi intelligenza dice che il successo a sud è stato dettato dalla scelta di difendere il reddito cosa risponde a chi dice come Cimmino che è un voto di scambio poi sento Daniela Santanchè a cui chiederemo perché toglieranno forse o no se lo tolgono è voto di scambio avete fatto voto di scambio io questa la trovo un'offesa non tanto nei nostri confronti ma nei confronti di quei signori nei confronti dei percettori di reddito di cittadinanza è come se dire che il voto di scambio a parte che il voto di scambio è una cosa seria e noi l'abbiamo combattuto con delle leggi serie quindi eviterei di semplificare in questo modo ma è un'offesa perché è come dire che i percettori di reddito di cittadinanza non abbiano una coscienza politica e non sappiano scegliere una visione di paese non solo per loro ma per i propri figli è come se la coscienza politica civica sia appannaggio delle eliti illuminate e non delle persone che versano in condizioni di disagio sociale noi ci siamo fatti carico di questo disagio sociale le curve che abbiamo visto che fanno una correlazione tra i voti al sud e i percettori di reddito di cittadinanza sono improprie perché non c'è un nesso di causalità reale però a Napoli lo vedremo tra poco avete preso una marea di voti ed è la città che ha più distribuzione di reddito di cittadinanza anche in Calabria che è la mia regione noi abbiamo preso il 30% ma se poi andiamo a vedere realmente il numero dei percettori con il numero dei voti maggiore dei percettori una volta avreste detto lei si dovrebbe vergognare Cimmino di dire una cosa del genere di parlare di voto di scambio è una vergogna ed è anche un'offesa nei confronti dei percettori di reddito di cittadinanza che sono delle persone con una dignità che noi difendiamo io non mi vergogno io non mi vergogno perché il mio primo obiettivo ogni giorno è dare lavoro a persone come le persone collegate da Palermo che prima di una coscienza politica devono mettere un piatto a tavola appunto quindi voi avete barattato il futuro di queste persone con un reddito con una promessa di reddito loro dignità e la possibilità di sopravvivere e di mettere un piatto in tavola altro che barattato mi faccia completare ne dovrete rispondere perché nel momento in cui non si potrà più far fronte a questo reggio di cittadinanza è un delitto mi dichiaro colpevole mi dichiaro colpevole siamo colpevoli di averci fatto di carico della questione sociale in questo paese è un dovere guardi se mi fa parlare 30 secondi è un dovere uno Stato civile ha il dovere di occuparsi dei più poveri ma voi avete stabilito un reddito di cittadinanza avete creato una legge senza creare i mezzi per controllarla e quindi sappiamo benissimo che su 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza la stragrande maggioranza non ha diritto a ricevere il reddito e soprattutto il reddito è un incentivo al lavoro a nero quindi voi avete ipotecato avete ipotecato il futuro di queste persone che hanno il sacrosanto diritto a lavoro perché vengono dal sud il sacrosanto diritto di lavorare e di essere riservatoio di voti di scambi scambi un attimo avete ipotecato il futuro di queste persone un attimo voglio vedere i numeri i dati voglio vedere i fatti un attimo perché ancora Evi non ha parlato l'onorevole Evi non ha parlato va bene dopo ci ci torniamo ci torniamo un attimo solo perché adesso voglio vedere se Daniela Santanchè di cui si parla anche come ipotetico ministro ho letto del turismo e quant'altro non le chiedo nulla perché ovviamente non me lo può confermare però sicuramente è una donna che aveva un ruolo allora le chiedo per i ragazzi per le persone che ho alle mie spalle di Palermo che idea avrete perché voi siete stati gli unici con coraggio in campagna elettorale a dire noi siamo contrari al reddito di cittadinanza che succederà Daniela Santanchè assolutamente grazie buonasera a tutti eletta neosenatrice neosenatrice lo ricordo grazie grazie volevo fare un attimo di chiarezza perché vede non vorrei che passasse un messaggio sbagliato allora le persone che hanno necessità di un sostegno le persone più fragili gli invialidi gli over 60 che hanno perso lavoro le famiglie che magari hanno perso lavoro dei figli minori non hanno nulla da temere perché noi sappiamo e siamo consapevoli che ci sono tutta una serie di persone che vanno aiutate e vogliamo farlo meglio qual è il tema che chi invece forza lavoro e ha da 18 a 59 anni io credo che la dignità la dia il lavoro e noi faremo di tutto per creare le condizioni a coloro gli unici che possono creare il lavoro che sono gli imprenditori perché tutti i governi che ci hanno governato in questi anni ricordo che ha sempre governato la sinistra almeno negli ultimi dieci anni peraltro senza mai aver vinto le elezioni e i 5 Stelle negli ultimi anni hanno una visione profondamente sbagliata perché le persone collegate da Palermo io credo che se hanno le condizioni fisiche di poter lavorare sarebbero molto più contenti di avere un lavoro che è un metadone di Stato perché vede il nostro obiettivo non è di dire a queste persone non ci servite non abbiamo bisogno di voi state a casa e non rompete vi diamo la paghetta noi invece diciamo abbiamo bisogno di voi perché oggi un ragazzo che ha 20 anni 25 30 anni tenerlo a casa con il reddito di cittadinanza è vergognoso posso andare a Palermo per la nostra nazione ok posso andare subito a Palermo e poi sentiamo l'onorevole Evi vedo una signora vorrei far parlare una signora scusatemi voi avete già parlato quella signora lì a destra per cortesia vieni qua un secondo aspetta un secondo poco fa stavi dicendo calma ecco ovviamente Massimo la piazza si è un attimo infiammata le parole dell'onorevole Santanchè Lia tu stavi parlando prima mentre parlava la senatrice sì perché è folle sostenere che il reddito di cittadinanza si può paragonare a uno stipendio mi ha chiedito questo eppure però il discorso l'onorevole Santanchè sembra chiaro ho detto una cosa diversa mi scusi l'onorevole Santanchè mi ascolti che io ho detto un'altra cosa mi scusi l'onorevole scusa un attimo l'onorevole Santanchè io l'ho ascoltata con attenzione sì ma dovete ascoltare bene quello che dice attenti ascoltate non ha mai detto che vale abbiamo ascoltato bene lei ci ascolti pure però sì ma non ha detto che equivale a uno stipendio onorevole mi scusi dottore Giletti è chiaro io sono ho capito perfettamente cosa ha detto la Santanchè e le dico che dal punto di vista del principio siamo tutti d'accordo nel senso che tutti vorrebbero un lavoro e non vorrebbero il reddito di cittadinanza il problema è che però il lavoro lo deve creare chi ci governa e allora io colgo l'occasione per comunicarle che il comune di Palermo ha 7.000 posti d'organico vuoti 7.000 il che significherebbe dare lavoro a 7.000 persone se è considerato che la giunta del comune di Palermo è una giunta di centrodestra farebbe bene lei proprio per essere coerente con le cose che lei dice e che io condivido di dire al sindaco la galla di avviare le assunzioni ma lei è sicuro è sicuro che nell'organico no siccome siccome nell'organico 7.000 persone non è una cifra banale adesso andatevi quanti sono andiamo a vedere la galla per cortesia va bene però scusi Giletti però scusi Giletti va bene abbassami l'audio eccomi prego Santanchè e poi evi posso dire una cosa a questo signore Giletti perché vede lui adesso ci sta parlando io adesso non lo so 7.000 a me sembra una cifra fuori dall'ogni logica poi non mi stupisce più l'Italia non mi stupisce più ci sono 900 usceri in un palazzo a me stupisce sì però a me stupisce palazzo dei normanni no mi hanno trattato eh prego bene però detto che quindi non so rispondere su Palermo e quanti sono i posti a disposizione però vede l'atteggiamento pensano subito a un posto pubblico io facevo un discorso diverso poi ben venga se c'è quel posto ma io ho fatto un discorso che era non temete chi ne ha diritto non temete e anzi aiutateci perché quelle persone devono stare con noi perché noi se Giorgia Meloni avrà l'incarico e se succederà quello che io mi auguro succederà noi faremo di tutto per attivarci sulle politiche attive del lavoro questo è il tema perché le faccio un esempio il Giletti posso darne un numero questo è certo scusi poi finisco 1246 1246 dipendenti dei centri per l'impiego in attesa di essere assunti dalla regione siciliana governata dal centro-destra 1246 sa quanti ne ha assunti nella regione sicilia zero nei centri per l'impiego come volete far funzionare le politiche attive allora però scusate l'onorevole Evi fino adesso non ha parlato risponda e poi do la parola alla Evi dai prego rispondo brevemente una cosa che tutti gli italiani sanno oggi chi cerca di essere stabilizzato sono i navigator ma cosa c'entrano i navigator perché non avete fatto le assunti nei centri per l'impiego no che oggi essi stessi ce l'avete fatto di essere stabilizzati con un lavoro lei sta confondendo chi ci guarda da casa dica la verità no io non ho voglia di alzare i toni voi avete confuso chi è in povertà e a chi è forza lavoro dal balcone avevate detto abolita la parola e creati posti di lavoro ma perché Musumeci non ne ha fatto le assunzioni avete fatto una legge sbagliata oltretutto senza controlli e lei sa bene e chi prende anche il rendito di cittadinanza fermi scusatemi adesso do la parola subito dopo alla Evi ma vi voglio far vedere il fallimento vero sono i centri per l'impiego il vero fallimento di tutta questa operazione sulla quale qualcuno poi si riassume responsabilità sia per i soldi magari non versati finanziati non lo so però questa è la storia guardate e poi parla la Evi per cortesia perché è stata educata aspettata prego buongiorno il centro per l'impiego è qui? è qui accanto sono giusto ora ancora c'è qualcuno? miracolo le porte si sono aperte è arrivata una neodirigente che ha nel nome il messaggio di salvezza si chiama salvatrice Rizzo scusi la risata ma me l'aspettavo questa telefonata lei deve venire e mi deve venire a cercare e mi intervista ma prima di accettare il suo invito siamo andati a verificare la situazione negli uffici con una telecamera nascosta la prima novità è che l'ufficio stavolta è finalmente aperto siccome siamo percettori del desiderio di cittadinanza esatto volevamo sapere se c'era qualche novità per poter essere inseriti nel mondo del lavoro la seconda è che troviamo addirittura un'impiegata che si attacca al telefono e si prodiga per trovare lavoro alla nostra complice ciao c'è una signora che ha trovato lavoro per bisogno ciao ma io per se gli ho trovato io tu ho trovato il telefono ce l'hai non lo montava perfetto dottoressa buongiorno finalmente ci conosciamo ci porti in giro a vedere un attimo con piacere quegli uffici avevamo trovato sempre chiuso e volevamo vedere avete questa voglia perché no andiamo questo è proprio il forest fantastico sì ci stiamo la forestale gestiamo anche il reddito di cittadinanza fondamenti migliori è la dottoressa un'energia sono arrivati i signori della cooperativa questo nuovo governo che sta per arrivare che ha giurato guerra al reddito di cittadinanza che succederà? il reddito secondo me non va tolto va assolutamente modificato perché c'è stata una impostazione di procedura difficilissima da attuare e da gestire mi sembra capire che comunque non c'è il timore che si chiude qua a baracca e burattini che si va a casa no ma no anche perché noi siamo un ufficio istituzionale non facciamo noi solo il reddito noi gestiamo la forestale gestiamo le... è stato un piacere ritornare e ritrovare un ufficio totalmente diverso finalmente aperto non vorrei pensare solo che serviva la televisione per cambiare tutto o un nuovo dirigente Eleonora è onorevole mi chiedo perdono devo andare in pubblicità ma dopo parla a lei va bene ci vediamo tra qualche istante io personalmente non l'ho penetrata dal fatto che non sono un pochino schizzinato allora va bene adesso c'è la diretta devo metter giù un attimo solo allora ero al telefono con una persona che mi ha dato una risposta sulla questione dei dipendenti del comune di Palermo la do dopo la do dopo perché adesso sta per parlare Flavia Carlini che è una giovane molto efficace e che stimola un po' la politica e come sempre ne abbiamo chiesto di arrivare a fare la divulgatrice in modo suo prego Flavia Carlini mi piacerebbe in effetti iniziare questo discorso dicendo che in Italia non abbiamo bisogno di misure tipo il reddito di cittadinanza mi piacerebbe dire che l'unico vero problema che ha l'Italia è che non si trova lavoro e che è per questo che c'è la povertà ma non lo posso dire perché sarebbe falso oltre al fatto che dato Istat un milione di persone sono state risollevate dalla povertà attraverso il reddito di cittadinanza il 45% di chi percepisce il reddito ha già un lavoro ed è comunque povero allora com'è possibile essere poveri nonostante si abbia un lavoro? è possibile perché siamo in Italia ed il lavoro è pagato così poco che da solo spesso non è sufficiente per la sussistenza per avere una vita dignitosa quindi per come è oggi il mercato del lavoro in Italia c'è comunque bisogno di un'assistenza di Stato quindi noi dobbiamo dircela la verità di come è fatto il mercato del lavoro in Italia e quindi trovare lavoro a tutte le persone non basta per farle uscire dalla morsa della povertà che è quello che dice la politica una certa politica e che però non guarda quelle che sono le dinamiche del paese reale il 77% delle persone che percepisce il reddito di cittadinanza lo reputa un fattore essenziale per la propria sopravvivenza cioè ma vi rendete conto di quanto è grave questo dato ed è una responsabilità politica ed è una responsabilità collettiva non lasciare indietro nessuno non può essere solo uno slogan deve essere un fatto non si può continuare ad investire di investire di investire solo sulle fasce più ricche di popolazione è necessario investire anche sulle fasce più povere di popolazione sulle fasce più deboli di popolazione ma che eredita ci volete lasciare? un paese da ricostruire con famiglie da ricomporre perché sostanzialmente smembrate dalla precarietà che voi avete costruito ma che cioè ma vi rendete conto quando vi renderete conto che una politica che ragiona per caste non è una politica che ha ragione di esistere ma quando vi rendete conto che la mobilità sociale è il motore su cui costruire questo paese allora in vista di questo nuovo governo che si formerà io voglio dire una cosa le chiacchiere mascherate da politica non cambieranno questo paese Clavia Carlini divulgatrice per noi e poi la trovate sempre sui social che è un mondo dove c'è molto fermento allora cosa non funziona? ha sentito? Clavia dice basta cioè chiacchiere bisogna fare produrre energia vitale giovane anche lei è giovane come si cambia questo paese? ma intanto credo che non certo con le ricette che la destra ci vuole portare sul tavolo e proporre in questo momento io faccio un esempio molto concreto e leggo a tutto il dibattito che abbiamo fatto questa sera anche un altro tema che è quello dell'energia della transizione ecologica non posso non farlo perché le destre Fratelli d'Italia in particolare la Lega e Forza Italia ci vogliono far rimanere in uno status quo che di fatto porta avanti un modello che ha causato i grandi problemi che abbiamo oggi vogliono ritornare alle trivelle vogliono riaprire le centrale a carbone a rigassificatori a tutto spiano quella roba lì non crea lavoro quella roba lì ha una intensità di occupati bassissima rispetto invece alle nuove proposte sostenibili alla green economy rispetto alle rinnovabili rispetto all'efficienza energetica all'economia circolare dove lì tutto il mondo lo sta dicendo lei sa però io per carità la seguo e sono assolutamente d'accordo su un'operazione che andava fatta dieci anni fa oggi siamo in ritardo ma lei sa che oggi hanno chiuso anche il gas se non sbaglio i russi senza rigassificatore che dovrebbe arrivare lì a Piombino con tutto il rispetto di chi abita a Piombino che ha diritto alla sicurezza diritto di discutere se non arriva entro poco le aziende tipo quella di Cimmino dove vanno a finire perché io questo che non riesco a capire lo capisco il disegno ma poi bisogna essere sulla realtà ha sentito noi prima abbiamo ascoltato un signore che ha cinque alberghi importanti ed è costretto a chiuderli perché ha una bolletta da mezzo milione di euro il tema infatti non è la quantità di energie di materia prima che ci serve tant'è vero che infatti i rigassificatori se va bene arriveranno per l'estate prossima quello di Piombino quell'altro l'anno dopo ancora quindi non dobbiamo prendere in giro le persone non serviranno quelli per abbassare le bollette abbassare le bollette si deve fare in un solo modo tassandogli extra profitti 50 milioni di euro la classe politica non è riuscita è stata fallimentare mi ricordo che era venuto qui Conte e mi disse con ragione io anzi protestai io protestai e disse ma che cosa ve ne fate nel 25% tassate nel 50% quei miliardi li date alle aziende normali che vanno avanti era una norma scritta male ho capito era una norma scritta male ma Cimmino adesso arrivo la ridò la parola vedevo Cimmino che la chiedeva la Santanchè Cimmino se non si fanno delle cose subito immediate io non so lei quanto può stare aperto ma molte aziende italiane vorrei che fosse chiaro a tutti destra e sinistra a fine ottobre sono chiuse prego Cimmino ma infatti noi stiamo facendo i ragionamenti sul reddito di cittadinanza che è servito nelle ultime elezioni ma noi abbiamo uno Stato in questo momento sociale che è una bomba proleggeria perché il problema dell'energia non coinvolge soltanto le aziende coinvolge anche le famiglie se lei considera che una famiglia con queste bollette dovrà spendere dai 3 ai 4 mila euro al mese tra gas benzina energia in più all'anno vuol dire che noi siamo in una situazione di default quindi immediatamente bisogna intervenire per scollegare per slegare il prezzo del gas dalle bollette come hanno fatto altri paesi io soltanto qui in questa attività dove vi parlo lui a agosto ha pagato 87 mila euro di energia quindi scusi però Cimmino io da questo programma lo sto dicendo da marzo e le classe politica che c'era c'era Draghi c'era Draghi c'era Draghi perché ricordiamo c'era Draghi non perché lo chiedo io ma lo chiedono le industrie italiane di staccarlo non siamo riusciti a farlo eppure c'erano tutti i partiti insieme anche il Movimento 5 Stelle a un certo punto c'è stato dentro perché non siete riusciti a staccarlo e che cavolo prima ancora dello scoppio della guerra posso? posso Giletti? aspetti Cimmino finisce Cimmino poi Santanchè prego Cimmino veloce quindi noi stiamo parlando di un problema che diciamo è passato e che va rimodulato su quello che è il futuro perché quando io dicevo che il reddice di italianza va ristudiato è in considerazione della crisi enorme che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi poi intanto mentre queste persone da Palermo parlano e giustamente hanno bisogno di lavoro e con 700 euro al mese probabilmente non riescono neanche a mettere il piatto a tavola forse una classe politica è stata rieletta con 20.000 passa euro al mese e di quello strumento ha fatto diciamo il suo pass per i prossimi 5 anni di legislatura quindi questa è la distanza che esiste nel paese la distanza che esiste nel paese è tra il signor Cattaneo che ha parlato precedentemente il sottoscritto che parla da Milano i signori da Palermo che sono in una situazione di grave emergenza e coloro che invece siedono in posti importanti prendendo degli stipendi sfruttando quello che è il grande disagio sociale poi Vittoria dobbiamo creare lavoro e dobbiamo creare lavoro soprattutto al sud io non comprendo perché mettere in contrapposizione questa è un'operazione criminale criminale mettere in contrapposizione i problemi delle famiglie che oggi non riescono ho detto che è un'operazione criminale mi quereli ho detto che è un'operazione criminale mi quereli mi quereli non quereli non quereli cimmino dai lei ha fatto un'operazione criminale paragonando le persone che non ce la fanno a pagare la bolletta con chi ha problemi a sopravvivere cioè quel reddito di cittadinanza lo utilizzano il 39,6% per pagare le bollette e per pagare i debiti è un'operazione criminale mettere un'operazione classista mettere in contrapposizione il disagio delle persone è un'operazione pericolosissima è una lotta di classe va bene santa anche prego poi guardi 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 le persone hanno bisogno di lavorare e l'operazione criminale l'avete fatto a voi promettendo una realtà che non esiste la prego un attimo Gianluigi neanche nei fumetti Gianluigi un attimo un attimo conosce la mia storia e non si può permettere di dire che io non ho mai lavorato un secondo in vita mia prima si vada ad informare ma non solo la mia ma di tutti i miei colleghi usciamo dalle questioni personali fatemi parlare la santa anche ho capito ma la santa anche perché non si può permettere di fare classista in questo studio lei non glielo deve permettere perché è un'operazione classista lei è un classista io non sono classista lei è un classista e si deve vergognare io sono a Palermo lei è un classista io in questo momento dovrei essere a Palermo è lei che non può essere a Palermo io sono a Palermo con quelle persone è lei che non ha diritto a essere a Palermo con quelle persone io sono con i lavoratori io sono molto di più con i lavoratori di lei va bene lei mi sta mistificando la realtà allora andiamo a Palermo santa anche mi scusi andiamo a Palermo poi vengo da lei santa anche dopo arrivo santa anche arrivo premo Palermo dopo la santa anche prima che si mette in contatto va bene allora santa anche poi Palermo dai prego Daniela perché vede volevo dire a quei signori che erano che prima ci hanno detto i 7 mila posti a Palermo nell'amministrazione le voglio dire che dovrebbero stare con noi perché dovrebbero ben sapere che il sindaco precedente scusi Orlando ha creato solo precariato solo precariato e oggi grazie a un'amministrazione di centro-destra si risolveranno le questioni allora però perché Orlando ha dato posti a tutti per avere consenso ma tutti precari oggi a Palermo c'è il caos allora perché c'è un dissesto funzionale questo è il tema tra l'altro vuol dire la signora dei 5 stelle si no tra l'altro posso finire un secondo si però le dico la signora del 5 stelle si le devo dire una cosa visto che l'ha detta lei mi sono informato hanno 5 mila dipendenti nella macchina amministrativa più 2500 precari e non prevedono bandi quindi lo dico anche a loro cioè non è che potete vedere lo Stato come copertura di qualsiasi problema è l'attività privata che bisogna portare perché se no quello che esce dallo Stato va là e salta il banco dello Stato andiamo in default ecco ma volevo dire la signora dei 5 stelle il comune di Palermo si può parlare un attimo perché fate affermazioni e non date la possibilità di replicare è una cosa assurda ma se sta parlando ma che cavolo dice ma che cavolo dice che sta parlando ma non mi fa rispondere ma se sta parlando ma se sta parlando ma scusa ma stai parlando tu o sto parlando io mi faccia dire sto parlando io o stai parlando tu se ti ho dato la parola allora ma avete detto che ci sono 7000 posti vi ho detto che non è vero posso dirla posso dirla ti sto dicendo che non è vero che non è così e vabbè allora allora sono io bugiardo ma io lo posso dire che non è così e lo dica ma non è questione di bugiardo è questione di informazioni che c'ha lei sbagliata ah certo ce la giusta è lei va bene dove li facciamo 7000 posti il comune di Palermo dove li facciamo me lo spiego subito il comune di Palermo mi ascoglio maurizio devi spiegare questi 7000 posti dove 7000 posti sono quelli che mancano nella pianta organica del comune di Palermo e le partecipate del comune di Palermo dopo di ciò già ci sono state dichiarazioni dei presidenti delle aziende che hanno detto che manca il personale non possono garantire i servizi e quindi io cittadino pago la tassa per l'immondizia ma il servizio non mi viene reso perché mancano 800 persone alla RAP è chiaro allora voglio essere chiaro dal 2005 quindi lei mi sta dicendo che in una pianta organica che ha già 5000 dipendenti che le assicure una cifra altissima lei dice addirittura ne metteranno altri 7000 ma lei si rende conto che sta dicendo un'eresia perché vorrebbe dire avere 12000 persone in pianta organica abbia pazienza allora nel comune di Palermo il comune quelli che sono i servizi previsti per il comune di Palermo hanno una pianta organica di 7500 unità mentre il comune di Palermo lei sta tirando il dare le partecipate tutto quello che vuole 2500 lavoratori part time senta non ne usciamo non ne usciamo domani vedremo chi ha ragione tra noi due Santanchè Santanchè prego volevo esatto volevo comunque continuare a dire che aumentare il precariato al comune di Palermo come ha fatto il sindaco Orlando non è quella la ricetta della nuova amministrazione di centrodestra la collega del 5 stelle è che io non credo sia una cosa così difficile da comprendere perché nella vita guardi chi fa sbaglia ed è molto più corretto dire abbiamo sbagliato perché voi quando avete presentato il reddito di cittadinanza per un è saltata fermi mando il servizio a Napoli sul reddito di cittadinanza Marco Agostini è interessante ascoltate e poi discutiamo non tanto vediamo prego di cittadinanza di cittadinanza se ti dico Luigi Di Maio a me lo dici quanti quando arrivano a me mi piace scampia per un po' di sapere per un po' di cittadinanza di cittadinanza mi piace Se sono sfacciato, eh? Per chi ha votato lei? Io, sincero, ho votato per Conte. È l'umano che vive nelle case occupate, la lupava acqua, luce, un po' sulle case, o se no come si fa? Si fa per la fine, si fa per la fine, muore. Sono andato a casa, a 87. Sono andato a casa. Tu hai votato Movimento 5 Stelle? Io ci ho votato a Conte. Se il reddito di cittadinanza te l'avesse proposto, che so, Forza Italia, avresti votato Forza Italia? Ma mi chiederei a fare, mi viene a fare. Io ci do la racconto, ci ho paura con l'uomo. E non ho paura, siamo i loro modifiche, perché è affaticato il pronto, tutto questo impasto. Il reddito di cittadinanza è riuscito a strappare più persone dalle piazze di spaccio che 30 anni di bellezza delle forze dell'uomo. La situazione è complicata, perché se dovesse ritornare, qualche clan con soldi in tasca, sarebbe oggi molto più facile cedere alle lusinghe della Camus. Lei che lavoro fa? La domestica, tre volte a settimana. Quanto riesce a guadagnare con questo lavoro? Può stare ad andare dalle 3 ai 3,50. Lei comunque riceve, percepisce il reddito di cittadinanza? Percepisco il reddito di cittadinanza di 5,50. In realtà non potrebbe? No. Ma con 4,20 di affitto, la luce ogni due messe, il gas, l'acqua. Se le dovessero togliere il reddito, che succede a lei e la sua famiglia? Eh, non lo voglio neppure pensare. Io mi repito una povera crista che si fa studiare il pane per portare a casa e per non far mancare niente ai suoi figli. Però, furbetta no. Furbetta no. Deve fare casino! Tutte le settimane! Tutto quanto l'ha affrontato, sì! Tutte le settimane! Ho solo l'ha tutto quanto a risciuto! C'è paura di perdere il reddito di cittadinanza? Sì, sì. Già da lunedì mi sono iniziate ad arrivare telefonate, persone che venivano qua. Ma purtroppo noi non riusciamo a dargli delle risposte ben precise, perché non sappiamo. Faccio fatica il figlio nostro! Faccio fatica il marito nostro! Agostino, guardi più, cazzo! Date spazio alla gioventù! Date spazio alla gioventù! Non lo vado a vedere, non lo vado a vedere, non lo vado a vedere, non lo vado a vedere! Dite la fatica! Non lo sa, cadrimà, fai malù! Anche a voi c'è proprio... Cadrimà, fai malù! Cimmino, cosa pensa? La sua città questa, la sua città d'origine? C'è Sofia Loro indietro? Sì, è la mia Napoli. Fa dolore vederla così? Che ha un disperato bisogno di lavoro e di politiche sociali che affianchino al welfare, opportunità di lavoro vero soprattutto per i giovani. Quindi mi fa malissimo pensare che questo disagio sia stato strumentalizzato e sfruttato in questi anni. Le dico una cosa, un attimo solo, Cimmino, perché il tempo vola, un attimo solo. Adesso mi hanno portato una notizia di un... Maradona fece una grande partita nel fango per un bambino che aveva bisogno di aiuto, si chiamava Luca IV, adesso fa notizia che è stato arrestato per droga e aveva reddito di cittadinanza. A me è baldino, al di là delle questioni, perché noi abbiamo trattato anche casi di invalidi, falsi invalidi, quindi è storia. Però quello che mi fa indignare, e spero che destra e siniestra siano sulla stessa linea, è che io non posso accettare che la guardia di finanza, che deve fare altro, andare a cercare veramente gli evasori, debba andare a cercare queste persone. Cioè prima di dare il reddito di cittadinanza, bisognerebbe accertarsi che quella... è il minimo che chiedo, se no facciamo come le mascherine, che abbiamo dato milioni di euro a così... Allora è questo il punto di questo paese, se no la finanza perde tempo, i carabinieri hanno altro a fare. No, la finanza non perde tempo. No, perde tempo perché va a accertarlo. E' compito della guardia di finanza, è compito della guardia di finanza, è compito della guardia di finanza, è vigilare che l'Isee, che le famiglie presentano per tutti i sussidi, non soltanto per il reddito di cittadinanza. No, però si minano mafiosi, le faccio un elenco di mafiosi che hanno preso il reddito di cittadinanza, è intollerabile un paese civile, non si possono dare i soldi di reddito a questa gente. No, è d'accordissimo, siamo d'accordissimo. Questo non lo accetto, lo dico in generale, non ce l'ho con lei. Però se voi vi siete accorti di errori gravi, dovete porre quantomeno, io penso che sia scandaloso dare soldi ai mafiosi, e questo l'abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, anche, purtroppo anche, allora evitiamo di darlo ai mafiosi. Consideriamo che i mafiosi se frodano, frodano lo Stato sempre, non soltanto con il reddito di cittadinanza. D'accordo, però devo cambiare pagina, devo scusarmi, saluto gli amici di Palermo, saluto Cimmino a Santanchè, devo cambiare pagina, tra poco ascolteremo per la prima volta gli audio dei ragazzi che sono a processo sul caso Grillo. È la prima volta che questi ragazzi molto giovani parlano di quello che è accaduto quella notte e quella mattina del 17 luglio del 2019. Tra pochissimo, grazie. Grazie, Evy. Io personalmente non l'ho penetrata dal fatto che sono un pochino schizzinato. Grazie, Evy. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.